Grazie per essere a quest'ultimo pomeriggio dove abbiamo due incontri, due ospiti e continuiamo quindi l'analisi che abbiamo realizzato questa mattina insieme a Piera De Tassis, parliamo ancora una volta di giornalismo applicato al cinema, applicato all'audiovisivo e lo facciamo con una delle firme più note del panorama nazionale e internazionale, Gianni Canova. Una cosa che vi volevo dire è che Canova gentilmente ci ha fatto arrivare delle copie di otto e mezzo di cui è direttore la nuova creatura e quindi il punto di partenza sarà proprio questo nuovo impegno editoriale tra i tanti che fanno già parte del suo curriculum e quindi di qui partiremo per poi sviluppare un discorso che si allarghi alla critica cinematografica o meglio anzi a quello che non è forse la critica cinematografica perché quando ci siamo sentiti telefonicamente il core, il punto focale di questo incontro dovrebbe essere proprio un approccio differente che Canova sta provando a sviluppare e sta sviluppando in particolare su questa rivista. Quindi come sempre avremo una prima parte di carattere seminariale ma voi potete iniziare già a fare domande o interagire insieme a noi utilizzando twitter e facebook sempre utilizzando l'hashtag link festival tutto attaccato cancelletto link festival e poi naturalmente se ci sono degli interventi in sala potete iniziare a prenotarli così quando è il momento vi passo la parola. Gianni Canova. Grazie, grazie mille. Due brevissime premesse prima di cominciare dallo spunto che mi è stato suggerito quindi da una riflessione sulla rivista che adesso mi trovo a fare. La prima è che sono un uomo fortunato e ringrazio la vita di avermi consentito di trasformare quella che alla vostra età era la mia grande passione in una professione. mi rendo conto di essere stato privilegiato nel senso che purtroppo non capita a tutti, non capita nella misura in cui è successa a me, non capita nella misura per cui la vita mi ha consentito di attraversare veramente quasi tutte le modalità di articolazione, di riflessione e di comunicazione sul cinema. Io ho lavorato per giornali quotidiani, ho lavorato per riviste, ho fondato riviste, ho fatto molta televisione, ho lavorato alla radio, ho scritto e diretto film, ho scritto un romanzo che ha a che fare col cinema, però tutto questo viene in secondo piano rispetto a quello che io ritengo essere il mio lavoro, la mia professione. Io sono prima di tutto un docente. Io rinuncerei a tutto, alla televisione che mi dà notorietà, che mi dà soldi, non è utile di negarlo, al giornalismo, alle riviste, a tutto ma non alla docenza. Perché tuttora, dopo 40 anni di pane e cinema, nulla mi emoziona di più e nulla mi gratifica di più di quando, per esempio, l'ho fatto ieri, ho finito un mio corso di storia del cinema italiano e abbiamo lavorato su la dolce vita di Fellini e quando io dopo 5 ore di lavoro su dolce vita vedo 300 ragazzi che si alzano in piedi e fanno una standing ovation a Fellini, ecco, questo a me gratifica e mi dice che quello che faccio ha senso. E anche questo in fondo è una forma di comunicazione di cui si parla poco in questo paese perché non abbiamo, lo dicevamo anche stamattina, insomma, non c'è memoria, non c'è trasmissione di saperi anche sulla nostra storia e sul nostro passato, però questo per mettere in chiaro le priorità e le gerarchie di valori anche che uno dà. La seconda cosa non mi piace molto, non volevo nessuno, essere definito critico. L'ho fatto, confesso che l'ho fatto. Confesso anche che tra i file che stanno sulla scrivania del mio computer ce n'è uno per un libro che non so mai se finirò, che nel mio file si intitola a due titoli provvisori possibili. Uno è confesso, ho fatto il critico e chiedo scusa. Il secondo è non dite a mia figlia che faccio il critico cinematografico, lei è convinta che faccia il pubblicitario in televisione. Mi mando il famoso titolo del libro di Seghela, non dite a mia madre che faccio il pubblicitario, lei crede che faccia il pianista in un bordello. Da dove il bordello è la televisione, insomma. Perché non mi va più di essere definito critico? Perché il critico è colui che all'uscita di un film dice che cosa ne pensa, attività che io rispetto ma che a me in questa fase della mia vita non interessa più. Voi non troverete in rete da nessuna parte da parecchi anni nessuno più riuscito a strapparmi palline, stelline, giudizi, non li do. A me non interessa dire che cosa ne penso di un film, ma quando mi capita mi interessa dire cosa penso. Mi interessano i film che mi fanno pensare, non i film che mi chiamano un giudizio di valore. Il giudizio di valore è soggettivo e credo che uno degli errori più discutibili che compiono spesso i critici è quello di attribuire un valore assoluto, universale e oggettivo alle proprie soggettive, soggettivissime passioni o predilezioni di gusto. Piace a me quindi è bello, non piace a me quindi è brutto. No, non è così. Io non dico più è bello o è brutto, dico mi piace o non mi piace. Ma non ho e non posso avere, benché, lo dicevo stamattina, credo di aver visto, a parte Giancarlo Zappoli che è qui e che poi dopo, credo di aver visto molti più film di tutti voi, quindi credo di avere se non altro un capitale di visioni, un po' più ricco. Ma ciò nonostante mi sono reso conto che sarebbe arrogante e presuntuoso credere che se un film piace a me abbia un valore assoluto di bellezza. No, piace a me, punto. Piace a me, è una mia passione, può essere anche una mia perversione, le abbiamo tutti. Non è detto che, non sono autorizzato a dire è bello o è brutto. E infatti non mi interessa dire cosa ne penso di un film, mi interessa, quando capita, ragionare su che tipo di pensiero un film ha messo in moto in me. E questo mi interessa socializzare e discutere con voi o con chi ha la bontà di mettersi in rete in relazione con me. E questo a prescindere dal giudizio di valore, perché a volte il pensiero è innescato da film che non mi piacciono. O a volte ci sono film che io adoro che non mi producono nessun tipo di pensiero. È un piacere e per fortuna, lo dice, nella vita ci sono i piaceri, mi ritengo da parte. Nel mio lavoro mi interessa il pensiero, il senso. Vi faccio un esempio. Io trovo che la grande bellezza sia uno dei film più belli che io abbia mai visto in vita mia. L'ho visto sette volte. Ogni volta che l'ho visto, ho visto tutti i difetti, e sono tanti, e tuttavia è come, io sono eterosessuale, è come con una donna, mi fa impazzire. Sono innamorato di quel film. E quando sei innamorato, nella fase di innamoramento, non te ne freglie. Andavo al cinema, entravo, ah ma c'è ancora la grande bellezza, rivedo lui. Perché devo andare con un altro? Se sono innamorato di quello, in questa fase voglio lui. L'abbiamo provato tutti, no? Quando sei innamorato vuoi quello, e vuoi ripetere. Sono innamorato della grande bellezza. È bello, non mi interessa, mi piace. Dopodiché se volete ragioniamo sul tipo di pensiero che mette, perché questo è un film che a me mette in moto pensiero. Quello che io trovo discutibile è quando vado in rete e leggo, è un film senza sceneggiatura. Signori miei, questo è uno dei film più scritti che io abbia mai visto. Dopodiché uno può dire un film senza trama, ma trama e sceneggiatura non sono la stessa cosa. A proposito della competenza. Dopodiché discutiamo anche sulla trama, perché da Godard in poi, dalla Nouvelle Vague in poi, che ha un minimo di competenza, ha preso, che trama non vuol dire uno sviluppo lineare, con un inizio, una fine, quella è la fiction. Ma Godard diceva per fare un film ci vogliono tre cose, un inizio, una fine, uno sviluppo, non necessariamente in questo ordine. Jean-Louis Godard. E allora, non necessariamente, attenzione, potete, possiamo dire tutto, però, per un minimo, dire che la grande bellezza non ha sceneggiatura è come se io andassi da un medico con un raffreddore e lui mi diagnosticasse un cancro. Non ci siamo. Studia un po' di più, ragazzo mio, prima di fare il medico o di fare il critico cinematografico. So di fare discorsi un po' impopolari, ma alla mia età consentitemi di farlo, con grande affetto poi per chi invece, e simpatia per chi ci prova, ma per chi ci prova con serietà. Vi dicevo, nella mia vita ho avuto la fortuna di attraversare tutte le forme di giornalismo e di professione che hanno a che fare col cinema e con la produzione di discorsi di senso sul cinema. Ho lavorato per quotidiani e ho attraversato tutto lo spettro, perché ho lavorato dal manifesto al domenicale del solo 24 ore, passando per la voce di Montanelli e per il fatto quotidiano. Ho lavorato per giornali femminili, da Elle a Anna, a Vogue, che non è un femminile ma è un maschile, ma sono magazine molto popolari. Ho lavorato per la televisione, ho fatto il critico, tra virgolette, in televisione. Ho fondato riviste. Da giovane, finita l'università, con alcuni amici abbiamo fondato Segno Cinema, che esiste tuttora. Non c'era spazio per noi giovani nelle riviste che esistevano, non abbiamo fondata una. Qualche anno dopo, era il 93, non mi piaceva l'approccio, l'idea di cinema che c'era su Segno Cinema e allora, perché poi le cose nascono così, in una serata in pizzeria con un amico editore che pubblicava riviste di musica rock, ci siamo detti, ma perché sarebbe bellissimo avere una rivista di cinema e di cultura audiovisiva che abbia con il cinema e con gli audiovisivi lo stesso approccio di disincantata passione che le tue riviste hanno con rock. E fondamo Duel, che è stato un caso unico, è un caso unico, perché Duel è nato nel 93, è ancora in edicola, anche se temo che quello che uscirà adesso sia l'ultimo numero. È stato in edicola vent'anni, in edicola vent'anni, senza avere padroni, padrini, finanziamenti pubblici, basandosi soltanto sulla passione di chi ci scriveva e sulla fidelizzazione dei lettori. C'è stato un momento in cui Duel vendeva 5.000 coppie al mese, che è una cifra immensa per una rivista militante fatta con due giovani redattori, che poi, come dire, tutti quelli che sono saliti sul treno di Duel in qualche modo hanno usato quel treno per andare altrove nella vita. Alcuni dei nomi storici di quella rivista, Paola Malanga, che è stata la prima redattrice, adesso la vice direttrice di Rai 5, Massimiliano Ferramondo, che è stato uno dei redattori più... adesso è il vice direttore di Wired. Insomma, è tutta gente che è venuta fuori da quella piccola esperienza e poi ha avuto accesso al giornalismo professionale. A un certo punto, nella mia vita, come dicevo stamattina, mi ero ritirato, avevo scelto di fare soprattutto un professore quando mi è stata offerta l'opportunità di fondare un'altra rivista. Questa volta non l'ho fondata io, mi è stato chiesto un progetto editoriale. E allora il progetto editoriale è questo qua. 8,5, una rivista sfida, perché è una rivista di cinema che non parla di film, dove non ci sono recensioni, non ci sono interviste agli autori, ai registi, agli attori, non ci sono neanche immagini prese dai film. È un'altra cosa. È una rivista che tenta di fare dei ragionamenti non sui film, ma sul cinema. La missione che mi era stata data dall'editore, che è Cinecittà, Istituto Luce, quindi dopo aver fatto per anni e anni riviste militanti, marginali, questa volta siamo nel cuore del sistema. Per la prima volta posso anche ritribuire, nel momento in cui nessuno quasi più paga, ce lo dirà poi Gianfranco Zaschire di cinema, ormai è un hobby, questa è la mia condizione, sì, ma tutti i collaboratori vengono pagati, e vengono pagati bene, bene, perché il lavoro intellettuale si paga, signori miei. In assenza di un'industria culturale, che è il vero problema di questo paese, noi non abbiamo mai avuto un'industria culturale, noi abbiamo sempre fatto gli snobbi tardoromantici, abbiamo disprezzato, un'americanata, però gli americani il lavoro intellettuale lo pagano, lo riconoscono, hanno un'industria culturale. Da noi non si capisce perché se uno produce cose nobilissime, come le mozzarella, o come i pannolini per bambini, e invece chi produce idee, chi produce... no, ma chi l'ha detto? Allora, una rivista, la missione che mi era stata data da Cinecittà era fai una rivista che contribuisca a rialzare, se possibile, la riflessione e la reputazione del cinema italiano nel mondo. Ed è venuta fuori Duellanti, che è una rivista che io amo molto, non solo perché è la mia ultima creatura, e come tutti i padri, insomma, i figli, per un po' li ami, poi, come mi è successo con Due, ad un certo punto, quando è diventato grande, io ho avuto negli ultimi due o tre anni, da quando ho ceduto la direzione a un mio giovane allievo, ho con Duell il rapporto che ha un padre con un figlio o una figlia, che non è cresciuto proprio come lui avrebbe voluto che crescesse, e quindi lo rispetti, perché è sempre la creatura, però, insomma, ci siamo capiti. E allora è nato, in questo modo è nato Otto e mezzo, che, come dire, rompe alcuni tabù, per esempio, copertine dove non ci sono immagini di cinema, e guardate, è tutto molto progettato, e su ogni numero c'è in copertina una domanda, e in quarta di copertina c'è una possibile risposta, con una frase quasi sempre tratta da un film, e con una quarta che gioca di rimpallo ironico sulla prima, no? Per tutto il primo anno il tema fisso di copertina era animale, c'erano delle copertine zoofile, e il primo numero iniziava, il numero uno, iniziava, c'era una fotografia di una pecora non tosata, e la frase era, siamo un paese di analfabeti filmici, punto di domanda. E in quarta di copertina c'era la stessa pecora tosata, e la straordinaria frase che Pasolini fa pronunciare a Orson Welles in quel capolavoro che è La ricotta del 1963, per chi non la ricordasse, la cito, nella ricotta Orson Welles interpreta il ruolo di un regista che sta mettendo in scena a Cinecittà l'ennesima versione in Technicolor della Passione di Cristo, arriva un giornalista, sul set, e gli fa varie domande, cosa ne pensa di Fellini? E Orson Welles barra Pasolini in una frase, fa la più bella recensione che si chiama Stato Fatta di Fellini, dice Fellini, e gli danza, sì, e gli danza, che è straordinario, il tratto rapsodico del cinema di Fellini è tutto lì, anche la grande bellezza è un film che danza, è uno dei motivi per cui lo amo. E poi il giornalista gli chiede, ma cosa ne pensa dell'Italia? E Orson Welles risponde, e la frase che viene riportato nella quarta di copertina del primo numero di otto e mezzo, il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d'Europa, 1963. Sono cambiate le cose da allora? Punto di domanda, è un punto di domanda di quelli che aprono le nostre copertine. E poi, se lo sfogliate, vedete che dentro otto e mezzo, ogni otto e mezzo, perché l'abbiamo chiamata così? Perché era una rivista che doveva occuparsi anche di numeri, perché è una rivista che ambisce ad andare nel mondo, c'è anche una versione in inglese e quindi deve essere immediatamente comprensibile, perché evoca un grande titolo di un grande film italiano, un film che racconta una crisi, quindi un momento di difficoltà come quello che stiamo attraversando, ma aprendo poi delle prospettive di rilancio e di rinascita. Dentro ci sono, ogni mese ci occupiamo di tracciare degli scenari, di interrogarci, c'è molta attenzione all'innovazione, alla comunicazione, alla politica culturale e quindi è un approccio col cinema e al cinema un po' diverso. Poi non sta a me dirlo. Questo numero è il primo del secondo anno. Giochiamo molto sui pro e contro, per esempio. Vedete questa pagina? Qui sapete che Ermanno Olmi ha fatto all'Accademia di Brera a Milano un'installazione sul Cristo morto di Mantegna e qui ospitiamo un intervento che sostiene questo tipo di intervento e un altro intervento giornalistico che invece ha molte perplessità sull'intervento installativo che Olmi ha fatto a Brera. Cerchiamo di dare molto spazio all'innovazione e quindi di raccontare tutte quelle esperienze di cui gli altri media non si occupano e che sono però indicative di un'eccellenza italiana anche in questo settore. E poi da questo numero che è il primo del secondo anno, il primo anno è stato mensile 8,5, dal 2014 diventiamo bimestrali perché abbiamo preso un po' di risorse che mettevamo sulla carta per fare un'app che dalla settimana prossima sarà disponibile, molto curata e molto anche quella... Cioè l'idea che la carta sopravvive se dà dei contenuti di riflessione molto forti e se è anche un bell'oggetto. Questo secondo me è un bell'oggetto. A me piace toccarlo, mi piace collezionare, altrimenti... E dentro abbiamo messo per esempio questi reprint. Guardate, questa è una copertina di cinema, 1937. L'originale, questo nero sembra velluto, è sensuale. Almeno io se lo sfioro produce in me delle sensazioni sensuali. Cinema era una rivista diretta dal figlio di Mussolini. In realtà poi se tu vai a vedere dentro cinema c'erano posizioni lontanissime dal fascismo. Lontanissime. ci scrivevano persone come Arnaim. C'erano, e lo pubblichiamo come reprint sul numero prossimo, un pezzo di Ungaretti straordinario sulla malinconia in Charlot. Charlot compie cento anni, abbiamo recuperato. E questo primo reprint c'era, e l'abbiamo ripubblicato, un pezzo di un grande regista dimenticato, sottovalutato, che si chiama Renato Castellani, che faceva un'analisi, prendendo un quadro del correggio, di come si costruiscono i punti di fuga nelle inquadrature, e studiando la storia dell'arte dava indicazione ai registi su come è opportuno focalizzare il punto di fuga nella costruzione visuale dell'immagine. Siamo regrediti. Anche perché, e l'ho scritto nell'introduzione, se uno va a leggere cinema, cinema era un straordinario luogo di dibattito dove registi, sceneggiatori intervenivano e confrontavano le loro idee di cinema. Oggi i registi e gli attori italiani scrivono solo se devono o accettano di farsi intervistare o di aria solo se devono promuovere il loro film. Ma l'idea di mettere in piedi un ragionamento complessivo non gli sfiora neanche. E questo è uno dei problemi che abbiamo oggi. Perché è un sistema sano e un sistema in cui chi fa il cinema prova anche a ragionarci sopra e prova a fare interventi come questi. Secondo me. Perché altrimenti il rischio di essere sterili è molto forte e molto grosso. Ripeto, è una scommessa fare il direttore di una rivista come questa e andiamo per esempio a segnalare delle cose vedete questo numero è sul cinema nei musei nel senso che con la rilocazione con la fine dell'esclusività della sala cinematografica cambiano i modi di fruizione il cinema si infiltra ovunque e cerchiamo di portare all'attenzione degli addetti ai lavori e dei lettori le mutazioni in corso gli esperimenti più significativi per esempio nella rubrica che si chiama cinema espanso su questo numero pubblichiamo un articolo che si chiama il bosone di Amarcord perché c'è un regista tra l'altro un amico che ha provato a fare un esperimento e cioè ha provato a velocizzare il tempo di scorrimento di un film comprimendo i fotogrammi e chiedendosi se io prendo un film che è psycho e lo comprimo lo comprimo lo faccio andare finché diventa un fotogramma solo che è la sovraimpressione di tutte le migliaia di fotogrammi che cosa viene fuori vengono fuori dei quadri vengono fuori dei quadri e lui ha fatto una mostra su questo e sono gli esperimenti ma non ne parla nessuno vengono fuori dei quadri in cui in qualche modo c'è il bosone forse del cinema o del film c'è qualcosa che va molto vicino all'ontologia dell'immagine e allora una rivista di questo tipo io credo che debba interrogarsi anche su questo e a me in questa fase della mia vita interessa molto più questo che non esercitarmi nella pur nobile arte della recensione nel senso che però la cosa che più mi 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 amareggio un po' spesso arrivano da me giovani ragazzi posso collaborare e io gli dico prendi studiti la rivista fammi delle proposte le mando il curriculum lo diceva già no no il curriculum non lo voglio se tu mi fai una proposta intelligente andiamo avanti 9 su 10 prendo la rivista vanno via dopo qualche giorno mi scrivono ma Canova non ci sono le recensioni le faccio io non hai capito niente ma proprio niente non ci sono le interviste vado a intervistare Sorrentino no no non vai a intervistare non ci interessa fatti venire delle idee che siano cerca di capire questo oggetto come funziona ti può piacere non ti può piacere facci delle proposte e infatti tanti pezzi vengono proprio da giovani collaboratori che hanno capito la filosofia della rivista hanno fatto delle proposte che hanno sorpreso anche me anche noi anche noi redattori e che abbiamo pubblicato bisogna farsi venire delle idee secondo me e dare molto spazio anche alla qualità della scrittura perché una cosa anche qui ragazzi e ragazze io non ho nessun problema riconoscerlo quando uno mi chiede che mestiere fai a volte il critico no metto mano alla pistola no sono un pacifista la pistola non ho messo a volte dico docente quando però rispondo sono un archeologo nel senso che mi occupo ormai di reperti o artefatti o di visite del millennio scorso da vecchio archeologo ho perso il filo colpa dell'acqua chiedo scusi no no lo stavo dicendo da vecchio archeologo vabbè anche a me capisco il senso dell'esercitarsi sulle recensioni tutto il lavoro di promozione a me interessa di più ah ecco la scrittura bravissima io mi chiedo e vi chiedo ma voi le leggete le recensioni le leggete le recensioni che appaiono sulla rete o che apparivano sulle riviste io se mi devo dare una risposta onesta da vecchio archeologo del millennio scorso confesso a me stesso e confesso a voi che ho letto e leggo tuttora le recensioni se e solo se leggendole la qualità della scrittura è tale da produrre in me piacere punto piacere può voler dire condivisione con quello che è scritto totale di senso con quello che è scritto ma è una forma di emozione forte oppure piacere della scrittura come scrive bene questo o questo che sorprendente aggettivo ha trovato io non ci sarei arrivato quello che a me manca nella rete è la cura della scrittura ripeto probabilmente mi manca perché sono un vecchio rudere del millennio scorso però a me manca poi magari mi dite voi a me manca e quando io continuo a fare una cosa su carta ma adesso anche l'app perché abbiamo un'app di otto e mezzo la cura della scrittura quello che diceva oggi Piera l'attacco incisivo lo sviluppo sorprendente la chiusura che non chiude ma rilancia e riapre e ti impone di pensare ulteriormente ecco queste cose perché se no perché leggiamo ragazzi e ragazze perché mai dobbiamo spendere del tempo di questa nostra unica vita in questa valle di lacrime perché io la risposta che mi do è questo lo faccio perché ne ricavo o informazione ma l'informazione ormai la trovi altrove o conoscenza o piacere barra emozione e allora per produrre emozione la scrittura continua a essere una qualità che va coltivata che va e anche mi permetto di dire a chi di voi insomma intenda provare a misurarsi con questo mestiere io trovo che ci siano alcuni vizi poi su questo magari ci confrontiamo anche con Giancarlo Zappoli in chi fa il recensore o il critico alcuni vizi che provo a sintetizzare così il primo l'ho già detto la pretesa di attribuire valore oggettivo universale assoluto a proprie predilezioni di gusto soggettivo la seconda è la malcelata preoccupazione di far vedere quanto sei bravo figo intelligente sprezzante invece che di produrre senso attorno all'oggetto su cui stai ti stai esercitando io questo lo trovo francamente insopportabile quando capita spesso di leggere un testo che sciorina dalla la propria cultura la propria sapienza il proprio narcisismo assoluto la terza perché ci sono vari tipi di critica c'è la critica semaforica che è quella che ti dà semaforo verde o semaforo rosso per accedere o non accedere a un film c'è la critica che tende a identificarsi con un'azione giudiziaria il critico magistrato il critico pubblico ministero il critico boia il critico che emette sentenze inappellabili con danni a morte spesso quasi col piacere sadico di esercitare questo questo lavoro tempo fa ero a cena in un ristorante milanese con la mia compagna una sera e nel tavolo accanto al nostro c'era un'altra coppia lui e una lei lui quarantenne lei poco di meno tipo radical chic milanese che avevano lei una moleskin no lui una moleskin e lei un ipad vicino non parlavano e ogni piatto vedevo che scribacchiavano lanciavano sguardi poi all'uscita dal ristorante casualmente siamo usciti assieme ci siamo trovati gli uni dopo gli altri a prendere i cappotti per uscire e colgo al volo una battuta di lei a lui e gli dice non ho trovato neanche un appiglio per stroncarli questi non stavano godendosi la cena questi stavano recensendo per TripAdvisor il ristorante in cui avevano cenato sostituendo al piacere del cibo al piacere della conversazione al piacere della seduzione perché magari erano lui e lei al primo a cena si fa anche questo non so ci si seduce il piacere di giudicare il piacere della critica della recensione dopo essere stati un popolo di poeti, eroi, santi, navigatori martiri, vergini siamo diventati un popolo di recensori ma di recensori con il gusto come dire un po' da boia da pubblico ministero che deve stroncare come godono nello stroncare da tifo perché poi è il tifo calcistico quello intorno alla grande bellezza si sono scatenati e uno dei meriti della grande bellezza è stato comunque quello di aver riscatenato grandi discorsi attorno al cinema grandi discussioni grandi polemiche attorno a cose che non succedeva da ma sempre con una modalità più da tifo calcistico che da riflessione e questa è un'altra delle cose che a me mettono un po' a disagio cioè la difficoltà di articolare riflessioni che siano produttive di senso che siano cioè voglio dire provo a dirla così a me non interessa più se un film mi piace o no mi interessa cioè mi interessa dal pubblico personale ma in quanto uomo pubblico che prova a scrivere delle cose con la presunzione perché è sempre una presunzione che queste cose possono interessare anche ad altri non è detto che ciò accada non mi interessa dire se un film mi piace o no ma che me frega vuoi sapere se io a quel film do tre pallini a me credo possa essere più utile mettere in circolo mettere in rete il pensiero perché il cinema a questo serve a me nella mia vita è servito a questo mi ha fornito degli strumenti che mi hanno aiutato meglio non solo a capire il mondo in cui mi è stato dato di vivere ma anche a percepirlo a sentirlo con maggiore intensità emotiva cognitiva percettiva eccetera 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 e questo io provo a socializzare non un giudizio la riflessione sul senso anche perché a me quello che interessa maggiormente oggi è provare a riflettere e provo a citare il titolo che abbiamo dato poi a questo incontro di oggi su quello che è il tema che più mi ha passione cioè che cosa vediamo veramente quando guardiamo un'immagine e quando guardiamo un'immagine in movimento che è il grande rimosso del nostro tempo è il grande tema su cui quasi nessuno si interroga su cui siamo totalmente analfabeti e su cui si giocano i destini di una cultura e di una società anche perché vi do due dati giornalisticamente interessanti purtroppo poco noti voi sapete che nel medioevo un uomo medio passatemi la banalizzazione sociologica un contadino toscano emiliano umbro entrava in contatto più o meno con 40 immagini artificiali nel corso di una vita e per immagini artificiali intendo un artefatto visivo progettato e realizzato per comunicare qualcosa quindi i dipinti sulla volta di una cattedrale 40 immagini nel corso di una vita oggi lo stesso uomo medio uno qualunque di noi entra in contatto con più o meno 600.000 immagini artificiali al giorno se voi calcolate che quando noi guardiamo la televisione il nostro occhio capta 25 frames al secondo il tempo medio di permanenza quotidiana davanti alla tv in Italia oggi è stimato media statistica fra le 3 ore e mezza e le 4 ore fate i calcoli 4 ore per 25 frames al secondo ma poi aggiungete il fatto quando andiamo al cinema sono 24 frames al secondo perché lo scorrimento nel cinematografo è un po' più lento rispetto allo scorrimento in televisione ma poi camminando per la strada guardando le vetrine camminando guidando l'automobile io stesso guardando vi intercetto un sacco di immagini artificiali a questo aggiungete la rete credo che un medio utente della rete una persona che naviga sta in rete un'ora e mezza al giorno arriviamo a 600.000 immagini al giorno questo vuol dire che in un arco di tempo relativamente breve dal punto di vista dell'evoluzione della specie pochi secoli dal 4-500 oggi il nostro apparato percettivo visivo ha subito e sta subendo una mutazione di proporzioni colossali i cui effetti sono ancora in gran parte da indagare che ce ne facciamo di 600.000 immagini artificiali al giorno come governiamo il traffico come selezioniamo quelle pochissime che metabolizziamo e in base a quali le altre le buttiamo via questo è un grande tema politico per esempio nella università in cui ho l'onore di insegnare ci siamo posti questo problema ci siamo posti per esempio il problema del punto di fissazione cioè che cosa guardiamo esattamente quando vediamo un flusso di immagini in movimento dove si posa il nostro occhio domanda se in un flusso di immagini in movimento appare una parola scritta e per parola scritta intendo indifferentemente il sottopancio dello speaker del telegiornale la scritta in scorrimento che aggiorna sul risultato delle partite di calcio la domenica o il sabato quando sempre è una che si gioca sempre o l'insegna al neon del bar di Las Vegas in cui il protagonista di quel dato film noir entra per annegare nel barbun le proprie malinconie esistenziali quella scritta la leggiamo oppure no? domanda semplicissima allora noi abbiamo un laboratorio con l'e-tracking sapete cos'è l'e-tracking? questo programma per cui ti metti delle cuffie un caschetto dei sensori davanti a uno schermo scorrono delle immagini e in base all'intensità termico termico c'è un puntino luminoso che segna in ogni istante il punto esatto in cui si pose il tuo sguardo e allora noi stiamo facendo una ricerca di questo tipo non è ancora finita ma proprio ci siamo chiesti questo viene letta o no la parola scritta e lo vedi perché se il pallino luminoso che indica il punto esatto non va mai sulla parola vuol dire che non l'hai letta ovviamente e allora risultati non definitivi ma già abbastanza significativi ci dicono che in soggetti con più di 40 anni d'età la mia i miei coetanei con più di 40 anni d'età la percentuale di coloro che va a leggere la parola scritta quando essa appare supera il 90% in soggetti con meno di 20 anni in realtà noi abbiamo fatto 18-20 matricole delle matricole i primi anni delle lauree triennali quindi 18-19-20 anni la percentuale di coloro che legge la parola scritta e la sua apparezione crolla intorno al 30% io non do giudizi mi guardo bene dal dar giudizi non dico era meglio eravamo meglio noi sono meglio no prendo atto di un cambiamento che è indiscutibile e mi chiedo questo diverso comportamento fra la mia generazione e quella di chi è entrato adesso in università è legato all'anagrafe cioè al fatto che questi 18 anni fra 20 anni fra 30 anni si comporteranno come mi comporto io adesso oppure è legato a qualcos'altro e cioè al fatto che fra me e loro fra la mia generazione e loro è saltato qualcosa io propendo per questa seconda ipotesi l'interpretazione che do io ma questa è un'interpretazione non è più un dato quello che vi davo prima era un dato questa è un'interpretazione la mia interpretazione è che fra me e loro fra me e voi forse alcuni di voi più giovani di voi si è verificato un salto di paradigma nel senso che io sono nato e cresciuto in un paradigma culturale logofonocentrico cioè che aveva al proprio centro la parola scritta o orale per cui fin da bambino sono stato abituato all'idea che la parola contenesse informazioni preziose imprescindibili importanti per cui io quando vedo una parola la leggo distintivamente laddove invece chi ha 18 19 20 anni e meno non è più cresciuto in un paradigma culturale logofonocentrico è cresciuto in un paradigma culturale probabilmente tendenzialmente iconocentrico e forse neanche più iconocentrico perché la rete sta di nuovo ridisegnando la logistica dei nostri organi percettivi comunque sicuramente non logofonocentrico e quindi questo significa che per esempio se io faccio lezione in un'aula universitaria continuo a usare una modalità comunicativa logofonocentrica rispetto a un'utenza che logofonocentrica non è più questo è un problema politico che cosa vediamo quando vediamo un'immagine in movimento come facciamo a capire se un'immagine mente o dice la verità c'è un libro bellissimo che mi permetto di consigliarvi è che il testo basico che do ai miei studenti della laurea magistrale in cinema e televisione che ho l'onore di dirigere il primo libro che devono leggere è un libro molto semplice che io trovo illuminante l'autrice si chiama Susan Sontag e il libro è davanti al dolore degli altri ed è un libro che si interroga su come reagiamo noi uomini del 2000 di fronte alle immagini che mostrano il dolore altrui fotografiche televisive o cinematografiche Sontag parte da una considerazione mi sto allontanato il vizio di fare il professore chiudo poi torniamo a cose più fatemi finire questo ragionamento posso? rapidissimo Sontag parte da una considerazione molto banale no banale molto illuminante parte da i capricci di Goia che erano quelli acqueforti che forse ricorderete quel grande pittore che era Goia realizzò all'inizio dell'ottocento dopo la campagna napoleonica in Spagna e le violenze perpetrate dall'esercito napoleonico in Spagna tutte quelle acqueforti che sono bellissime dietro Goia ha scritto su tutte io c'ero io l'ho visto questo è accaduto davvero lui ha usato il disegno quindi un'immagine come valore documentale o testimoniale per appunto testimoniare qualcosa di cui era stato testimone domanda se a quei tempi ci fosse già stata la fotografia e Goia invece di disegnare di realizzare la foto avesse scattato delle foto avrebbe sentito il bisogno ugualmente di scrivere sotto io c'ero io l'ho visto questo è accaduto davvero secondo voi no tendenzialmente no perché si presuppone che lo statuto ontologico dell'immagine fotografica sia autocertificante del fatto che se hai scattato una foto eri lì io col disegno posso anche mentire posso anche si ritiene posso inventare posso no disegnare qualcosa che parto visionario con la fotografia no la fotografia ero lì se l'ho scattata la fotografia non può che avere un valore documentale e quindi in teoria di fronte a una fotografia noi siamo portati a credere che ciò che esso ci mostra che essa ci mostra sia vero ci siamo fino a qui siete d'accordo e Sontag dice invece no non è così perché se noi andiamo a vedere per esempio tutte le fotografie di guerra scattate da che esiste documentazione fotografica delle guerre e la prima guerra sapete qual è la prima guerra di cui noi abbiamo documentazione fotografica è molto attuale perché è la guerra di Crimea del 1859 no siamo lì insomma sapete quando ci alleiamo con i francesi se non ricordo male le guerre di indipendenza insomma quella è la prima guerra di cui abbiamo documentazione fotografica da lì in poi fino al Vietnam dove le cose cambiano un po' ma quindi per quasi un secolo per più di un secolo tutte le fotografie di guerra tutte e la song che passa e rassegna Fenton tutti i più grandi fotografi sono tutte rappresentazioni cioè sono tutte come dire il fotografo è arrivato lì è sempre arrivato post factum anche per la pesantezza del dispositivo fotografico fino a metà degli anni fino al secolo scuolo e ha allestito la scena ha spostato il cadavere ha messo quel quel fucile in questo modo la palla di cannone così ha creato degli effetti scenografici quindi tutte le immagini che noi abbiamo storicamente considerato come documenti no di 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 fatti realmente accaduti in realtà sono delle non sono dei documenti ma sono delle rappresentazioni quindi sì sono la verità o la realtà ma filtrata da un punto di vista perché la fotografia è questo e poi il cinema è questo non è la realtà o la riproduzione mimetica della realtà è un punto di vista sulla realtà fotografare inquadrare fotografare o filmare significa inquadrare e inquadrare significa escludere significa scegliere nell'infinito del visibile una porzione che io ritengo degna di essere assunta nel visibile assumendomi la responsabilità di un punto di vista e decidendo di lasciare nel fuoricampo tutto ciò che io non scatto quindi se io dovesse dire qual è lo statuto ontologico dell'immagine cinefotografica non saprei che usare uno simolo e dire che l'immagine fotografica prima e cinematografica poi è un'autentica menzogna cioè contemporaneamente non può che dire la verità ma non può che mentire simultaneamente nello stesso tempo perché è sì un documento di qualcosa che è realmente esistito e quindi è autentica ma nello stesso tempo è menzogna perché è soltanto un punto di vista parziale discutibile su un campo molto più ampio rispetto a cui chi ha scattato quella fotografia si è assunto una responsabilità capite che questo rende il nostro rapporto con le immagini cinefotografiche estremamente interessante problematico e bisognoso di come dire una riflessione che noi in Italia non abbiamo mai fatto infatti siamo totalmente sprovveduti rispetto alla capacità di decodificare immagini immagini fisse così come immagini in movimento e questo è a mio modo di vedere questa è una delle emergenze culturali di questo paese se non poniamo mano in fretta a questa situazione aggravata dal fatto che come sapete la situazione culturale del nostro paese è drammatica leggevo poco tempo fa una ricerca effettuata da un pool di università italiane in cui si diceva e sono dati che a me fanno venire la pelle d'oca che il 48,7% degli italiani udite bene 48,7% degli italiani nella fascia compresa fra i 16 e i 65 anni cioè la popolazione attiva insomma è in grado di comprendere un testo scritto 48,7% solo nella formulazione basica soggetto predicato complemento oggetto io mangio la mela lo capiscono tutti ma già se c'è un congiuntivo un periodo ipotetico il 48,7% non lo capisci questo è il dato recentissimo aggiungete a questo il totale analfabetismo iconico ne emerge un quadro di grande secondo me preoccupazione per lo stato culturale del paese di cui portano responsabilità in gran parte gli intellettuali i professori l'università i giornali le televisioni che hanno responsabilità gigantesca gigantesca perché lo dicevo stamattina e lo ripeto per chi non c'è io trovo che la rete sia per chi non c'era questa mattina una straordinaria opportunità di democratizzare l'accesso alla comunicazione ma affinché l'accesso alla comunicazione sia reale e non fittizio illusorio bisogna che nel momento in cui tu liberalizzi e democratizzi l'accesso tu abbia prima realizzato un'effettiva democrazia culturale cioè tu abbia realizzato una cultura diffusa nel paese una cultura diffusa che da noi non c'è perché se il 48,7% non è in grado e lo si vede nella paratassi cacofonica che spesso si legge nelle cose in rete dove veramente la capacità di articolare non c'è non c'è ma lo dico non con supponenza lo dico con grande con grande amarezza con grande anche autocritica perché anche noi baroni universitari portiamo delle responsabilità grandissime su questo grandissime nel senso che molto spesso l'establishment culturale italiano ha mostrato disprezzo nei confronti dei consumi culturali del popolo ha inseguito e in questo ragazzi siamo dentro tutti quanti di voi amano quel film solo sei di nicchia sono il film nordcoreano che conosciamo io la mia fidanzata se solo lo conoscono in dieci no è una merce non interessa più il culto della minoranza e tutto ciò che ha successo per carità merce con grandissimo disprezzo nei confronti dei consumi culturali di massa noi non abbiamo mai saputo creare una democrazia culturale di massa solida e diffusa per cui gli intellettuali si creavano i loro come dire gusti molto di nicchia e lasciando alle televisioni becere il compito di costruire motivo per cui poi la grande bellezza va in onda su canale 5 la sera dopo l'oscar fa sì 9 milioni di ascolto ma il giorno dopo la rete pullula e freme e ribolle di giudizi sguaiati feroci violenti ma che cazzata ma come fanno per forza da vent'anni non vedi altro che le fiction dove c'è un inizio uno svolgimento una fine dove i buoni sono buoni lo vedi alla prima inquadratura i cattivi sono cattivi dove lei mi ama lei mi odia dove non c'è il dubbio è ovvio che un film come la grande bellezza genera sconcerto genera perplessità e difficoltà di comprensione vi assicuro dopo la messa in onda sulla grande bellezza per dieci giorni ovunque io andassi perché mi riconoscono per la televisione andavo dal barbiere prof ma mi spiega quel film dieci minuti poi era noiosissimo andavo al bar la barista andavo al ristorante il cameriere andavo in lavanderia tutti sul taxi il cinemaniaco mi spiega la grande bellezza tutti l'avevano visto dieci minuti e poi l'avevano staccato ma io non ho non disprezzo anzi ammiro molto anche il fatto che l'abbiano iniziato a guardare perché attenzione il fatto che Canale 5 mandi in onda in prima serata la grande bellezza e nove milioni di italiani si connettano smentisce e dice quanto sono stati falsi ipocritamente e intollerabilmente falsi la Rai e Mediaset che da vent'anni ci dicono che il cinema in televisione non se lo fila nessuno per cui in televisione nani e ballerine perché gli italiani sono cretini no? sono diventati cretini scusate perché se tu metti la grande bellezza nove milioni si sintonizzano vuol dire che il cinema non è vero che non funziona dopodiché è ovvio che se per vent'anni hanno parlato soltanto un certo dialetto e non conoscono la lingua staccano era arabo per loro ma era arabo veramente lo dico con grande rispetto e sono incazzato con la Rai e con Mediaset perché sono irresponsabili ma anche i giornali e non è che i giornali lo dicevo stamattina i giornali i nostri i giornali i giornali democratici che hanno perseguito anche lì la cultura d'elite gli articolini che piacciono soltanto i professori universitari che si fanno i loro giochini le loro tramine e si lasciano andare al macero la cultura complessiva di un popolo distruggendo quello che poteva essere veramente il nostro valore come dire anche economico buttando veramente alla distruzione le cose straordinarie che in questo paese abbiamo fatto e facciamo e che nessuno più conosce cioè io sono veramente amareggiato quando lo dicevo stamattina consentitemi di ripetermi poi la smetto sono stato negli ultimi sei mesi in Spagna e in Polonia a fare delle conferenze sul cinema italiano e tu vai via e ti rendi conto che la dolce vita di Fellini conoscono le battute a memoria ma non erano studenti di cinema in una volta ho fatto un giro nei licei in Spagna e in Polonia ero a studenti di Humanities di lettere e tu vai da noi la dolce vita nessuno l'ha visto tra i miei colleghi tanti non hanno neanche sentito il bisogno perché se tu fai il critico cinematografico se tu scrivi sulla rete fai quello che vuoi ma se fai il critico e sei pagato per farlo e scrivi qualcosa sulla grande bellezza devi avere almeno la bontà di andarti a rivedere la dolce vita perché lì c'è un gioco di intertestualità che poi può piacere o no ma te lo devi rivedere non puoi dire orecchiatura non è vero non è così c'è un rapporto intertestuale strettissimo secondo me fecondo secondo me illuminante fra la dolce vita e la grande bellezza ed è un rapporto di intertestualità non di citazionismo alla Tarantino e tuttavia quelli che vanno in brodo di giugiole per come Tarantino cita poi vedono la grande bellezza e dicono i miei colleghi e non i miei colleghi ben pagati per scrivere queste scemenze orecchiatura della dolce vita dopodiché ad alcuni di questi io chiedo ma per esempio ti sei accorto di del momento in cui viene citato il finale della dolce vita ma perché viene citato il finale cioè no ma l'hanno visto ma non è il discorso della competenza vi faccio un altro esempio due anni fa sono alla mostra del cinema di Venezia ed esco dalla proiezione di un film che io trovo non uso che a me ha fatto molto pensare io lo trovo un film molto importante tanto è vero che sto finendo un saggio su le maschere le figure la raffigurazione del potere nel cinema italiano e lo apro e lo chiudo con questo film perché trovo sia un film illuminante ed è bella addormentata di Marco Bellocchio stroncato stroncato non compreso quando passò a Venezia vi dico due cose il film a me ha colpito molto non ho scritto subito ho fatto passare un po' di tempo e poi ho provato a mettere su un blog a cui collaboravo un invito vogliamo ripensare un po' alla bella addormentata e ho elencato sette punti non dando giudizio secondo me è un film che va rivisto per questo 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 cercando di elencare elementi di interesse del film le risposte che ho avuto dalla rete sono state o bravo l'ho sempre pensato anch'io oppure coglione non hai capito un cazzo ma nessuno è entrato nel merito cioè la mia riflessione ha generato soltanto uno schieramento di tipo calcistico da curva sud chi era già d'accordo e valutava già il film positivamente ha trovato nelle mie parole un pensiero confermativo chi non era d'accordo ha trovato nelle mie parole un pensiero confermativo per non essere d'accordo punto ci sta ci sta però non ci sta quello che è successo a Venezia all'uscita della proiezione perché a Venezia non so l'avete vista bella addormentata no vabbè allora a Venezia c'è una parte fondamentale interpretata da Isabelle Huppert secondo me fondamentale all'uscita di Venezia c'era un po' di ressa e trovo due colleghi firme note che scrivono su giornali importanti ben pagati per fare questo mestiere con aria così snobistico sprezzata venti minuti di troppo che è la classica frase che uno dice quando non ha un cazzo da dire la parte dell'Huppert l'avrei tagliata tutta e io dico scusa l'avresti tagliata ma allora perché nell'unica sequenza come dire di cinema nel cinema che c'è c'è proprio un film dell'Huppert perché a un certo punto si vede c'è una televisione accesa e su questa televisione accesa va il primo film interpretato da Isabelle Huppert quando era uno dei primissimi che è La dame camellia la signora senza camelli di Mauro Bolognini e c'è una sequenza in cui lei che è malata di tisi se non ricordo male beve sangue di un animale appena ucciso e io dico a questi miei due colleghi ma avete notato l'unico film che viene citato specificamente è un film che avete visto ah c'è un film citato si c'è un film citato ah e qual è no dovreste saperlo voi qual è ah no non l'abbiamo collo è un film dell'Huppert è il primo film dell'Huppert ah ma chi se ne frega e questo io lo trovo intollerabile nel senso che se un autore un grande autore come Bellocchio ti dà un indizio così importante dentro il suo film e ti dice che il personaggio metatestuale è quello interpretato dall'Huppert che guarda caso fa l'attrice nel film e fa l'attrice che ha smesso di fare l'attrice a me viene il dubbio che la bella addormentata sia lei e che il film oltre a destra tutti l'hanno vista come un film possa avere una dimensione di grande fascinazione anche come riflessione sul mestiere del recitare del far finta dell'assumere di identità fittizie di essere dam o camellia un po' allora questo io non pretendo che lo sappia un ragazzo che scrive sulla rete e pretendo che lo sappia uno che di mestiere fa il giornalista e il critico perché se non lo fa prende in giro il suo pubblico se non lo fa è come un medico che non ha la competenza di diagnosticare una malattia che ha studiato e che dovrebbe invece conoscere a me dà fastidio questo il pressapochismo spesso lo sono anch'io e lo riconosco però almeno cercare di non esserlo almeno non avere la spocchia di dire l'auper si può anche tagliare ma l'hai visto il film o no? e se lo sostieni allora argomenta dialetticamente qual è la tua convinzione per cui ritieni che questo si può anche tagliare un'ultima osservazione poi magari apriamo un attimo il dibattito come è cambiato il giornalismo nell'universo della rete è il giornalismo cinematografico da un lato ci sono esperienze che trovo nobilissime molto interessanti come quelle di My Movies di cui parlerà fra poco Giancarlo Zappa dall'altro lato ho come l'impressione ma anche qui è un'impressione confrontiamoci che finora per quanto riguarda il cinema la rete non abbia ancora espresso le potenzialità che poteva esprimere e che le cose che trovi in rete siano per lo più scimmiottature neanche particolarmente ben fatte delle forme espressive canoniche della cosiddetta critica prima della rete che cosa si trova in rete? recensioni e video recensioni che sono la riproposizione in rete della recensione scritta su carta o della video recensione in televisione punto non si trova quasi altro qualcosa si trova ma la cosa maggioritaria è quella perché che cosa si dovrebbe trovare di altro? ma si dovrebbe trovare la straordinaria possibilità che la rete ti dà di usare le immagini per lavorare sulle immagini io ricordo tempo fa esce vediamo che esempio posso fare vi ricordate quando esce il film Il Grinta il remake del grande film di Ariata esce io lo apprezzo molto e leggo anche qui tutte le cose che sono uscite su carta si capiva lontano meglio che nessuno aveva preso la briga di andare a vedere il vecchio film di Atta vado a cercare in rete e io che cosa avrei voluto trovare in rete cosa che non potevo trovare né sulla carta per esempio qualcuno che avesse provato a far attrito a mettere i due inizi l'inizio dei Cohen e l'inizio di Attaway oppure a fare quello che Godard faceva già vent'anni fa con le sue histoire di cinema cioè giocare con le parole di immagini costruire degli incastri degli intarsi degli attriti tirar via la figura del critico recensore e fare in modo che le immagini il flusso dell'immagine imparare da Vierto da Einstein da Godard e usare la rete perché la rete consente a tutti di fare quello che un tempo facevano soltanto i grandi registi e quindi non la recensione chi se ne frega non io che mi metto lì e dico il film è piaciuto o no certo significa lavorare ma significa trovare ragazzi chi fa questo chi è il primo che riesce a fare questo ha trovato lo specifico della rete per quanto riguarda il cinema e non c'è ancora cioè costruire un lavoro sulle immagini che usi le immagini o anche le parole per produrre nuovi artefatti che siano al contempo di riflessione e di arricchimento ma abbiamo tutto a disposizione uno può andare a pescarsi trovi tutto su youtube cioè trovi qualunque testo li puoi smontare li puoi isolare dilatare amplificare fermare bloccare siamo tutti produttori di contenuti ma facciamolo veramente forse sono io che non conosco poi Giancarlo magari tu conosci la rete meglio di me io non trovo che ci sia questo lavoro e quindi la mia impressione è che il tipo di giornalismo che si fa sul cinema in rete sia tuttora prevalentemente un giornalismo parassitario rispetto ai modelli dei vecchi media questo è un limite ma è anche una grande opportunità per chi ci vuole provare davvero c'è un territorio in cui c'è ancora un linguaggio da inventare una modalità comunicativa da inventare e quindi una bella sfida per chi di voi vuole provarci io se avesse la vostra età mi butterei su quello così come vent'anni fa trent'anni fa mi sono buttato su Segno Cinema su Duel inventando delle cose nuove arrivando prima degli altri il primo che ci arriva costruisce un'autorevolezza su quel terreno e tutti gli altri devono confrontarsi con lui basta Allora abbiamo ricevuto già alcune domande dalla rete quindi chi si vuole prenotare ripeto lo faccia sia con la manina sia usando l'hashtag link festival su twitter o su facebook e per rompere il ghiaccio parto io mi sono preso dei piccoli appunti la prima domanda riguarda in particolare Rotta e Mezzo un minimo provocatoria cioè non crede che in quanto negazione della figura del critico questa rivista lei la possa fare perché in un certo senso se lo può permettere è perché ha una storia alle spalle e invece come appunto i giovani dovrebbero proporsi soprattutto sul web perché realizzare una rivista di questo tipo è praticamente impensabile per qualcuno un po' più giovane cioè questa è una rivista di alto profilo realizzata da chi ha un'esperienza alle spalle molto importante Allora non è la negazione del critico è l'idea che più che il critico ci debba essere l'analista cioè una persona capace di fare analisi su tutto ciò che ha a che fare con il mondo del cinema l'ho detto io ho passato la vita lavorando e creando riviste di nicchia marginali per dirne una ed essere molto venale io ho fatto duel per vent'anni senza mai non dico ricevere una lira o un euro di compenso ma mettendoci di mio nel senso che mi pagavo di tasca mia l'andata ai festival il telefono l'affitto della redazione ce lo pagavamo tra di noi e tutti i collaboratori nessuno mai tranne i due ragazzi che stavano in redazione vivendo lì venti ore al giorno e prendevano mille euro al mese ma per tutti gli altri è stata militanza passione punto questa è la prima volta dopo tanti anni che faccio una rivista per cui percepisco un compenso però come dire è anche il frutto di una vita in cui uno ha seminato dopo di che devo dire con grande amarezza prima dicevo duel probabilmente chiude perché tre anni fa ormai ho provato adesso non voglio so benissimo che la cosa peggiore che può fare un uomo non più giovane fatemi usare la litota anziano ecco quale sono io è quello di dire ai giovani prendetevela con me sostituitemi perché la cosa peggiore infatti non lo faccio perché se poi voi mi ubbidite sono sempre io in ogni caso vi incastro però insomma tre anni fa in un paese gerontocratico come questo dove almeno fino a poco fa adesso sono arrivati al potere i quarantenni quindi benvenga insomma tre anni fa ho deciso assieme alla cooperativa che editava duellanti di lasciare la direzione a un ragazzo che era un mio allievo che è un mio allievo che ha 28 anni aveva 28 anni tre anni fa e purtroppo Marco non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta perché non ha capito alcune regole basiche del giornalismo lui aveva in mente di fare un giornale perfetto per come ce l'aveva in mente lui e per dirvi il numero che doveva uscire a dicembre 2013 non è ancora stato consegnato in tipografia e uscirà a fine aprile probabilmente non si può cioè tu non puoi per inseguire una tua idea di perfezione giornalistica non rispettare se c'è scritto mensile il giornale deve uscire ogni mese altrimenti gli edicolanti si incazzano la distribuzione si arrabbia i lettori sono disorientati non capiscono più ma c'è o non c'è questo giornale e quindi piuttosto tiri via due articoli non hai trovato le immagini perfette che cercavi il giornale deve uscire deve uscire non puoi e Marco ha costruito il giornale sui suoi tempi di produzione per cui chi di voi lo conosce da un paio d'anni non si sa più quando esce e quindi questo ha provocato un calo di vendite un calo di abbonamenti ha provocato tutta una serie di problemi molto grossi molto grossi non è facile non è facile bisogna avere anche a volte l'umiltà l'accettazione dell'imperfezione fare un giornale anche questo per esempio Marco non osava toccare un direttore lo diceva stamattina a Piera De Tassis deve avere il coraggio di assumersi la responsabilità di tagliare allora se tu chiedi un pezzo di 320 battute o il collaboratore mi manda 320 battute o se il collaboratore come spesso succede mi manda 3200 battute ragazzi delle due l'una o lo butto via e dico no grazie o lo taglio invece Marco per rispetto lo rimandava per favore tagliamelo dopo 15 giorni tornava invece di 3200 era 2.900 no mi servono 320 320 oh ma il mio pensiero ma allora tu mi censuri non è possibile io non posso esprimirmi in 320 battute ciao se l'ingombro è 320 battute tu scrivi e un direttore deve tagliare oppure deve tagliare il collaboratore questo è spietato sì sì e anche se io ti chiedo e concordiamo 500 battute tu mi mandi 500 battute se no non hai rispetto del mio lavoro Marco è stato troppo rispettoso dei collaboratori e a fronte dei collaboratori magari più anziani di lui che dicevano ma come ma allora tu mi censuri non ha avuto la forza che io da vecchia puttana del giornalismo avevo di dire no ti taglio e ti taglio subito perché domani noi andiamo in stampa e dobbiamo uscire e nessuno diceva borbottavano un po' ma insomma mi ha tagliato l'aggettivo fondamentale fallo tu allora mandami 320 battute io ti pubblico senza toccare niente o i titoli Marco stava lì faceva i titoli poi li mandava aspettava l'approvazione i titoli li fa la redazione non li fa il collaboratore i titoli li fa il direttore il capo la redazione se il collaboratore mette titoli li devi cassare perché il collaboratore non ha idea della fattura complessiva del giornale quindi magari quella parola che tu usi nel titolo è già usata in sette altri titoli di articoli prima o dopo i titoli li fa la redazione non li può fare il collaboratore e invece Marco rimandava indietro gli articoli questo titolo non va bene suggerisci no no perdi tempo e poi il giornale non esce e quindi adesso lo dico con grande rammarico c'è una situazione di grave crisi io spero che si risolva ma insomma se il giornale non esce non si può uscire dicembre 2013 a fine aprile mi rendete conto anche quei pochi inserzionisti pubblicitari che c'erano si arrabbiano fanno causa perché poi uno dice io ho investito 2000 euro perché poi sono le cifre per fare pubblicità una cosa che usciva a dicembre tu mi esci ad aprile ridammi i soldi con le penali questa funziona così ragazzi quindi e l'altra domanda correlata sempre su otto e mezzo quando abbiamo fatto un incontro sulla critica musicale il direttore di blow up affermava che la scelta di non essere online né con un'app un sito spartano poca presenza sui social era una scelta editoriale perché la carta e la possibilità di essere presente in edicola e di presentare soprattutto dei contenuti importanti con approfondimento era il valore aggiunto che permetteva ancora appunto che la rivista avesse valore e che fosse venduta è una scelta che lei condivide dato che comunque c'è una cura estrema sia nel layout che in tutto quello che ottene no non la condivido credo che la carta abbia un valore e credo che i social media i social network ne abbiano un altro secondo me c'è spazio per l'uno e per l'altro insomma a me nella vita capita che ci sono dei momenti in cui ho voglia di bere un buon vino rosso e dei momenti in cui bevo coca cola ci sono delle sere in cui mi concedo un goccio di whisky e delle sere quasi sempre in cui bevo acqua naturale e basta e se uno mi chiedesse ma cos'è meglio cosa bisogna bere il vino l'acqua la coca no tutto c'è la carta c'è il sito e ci sono i social network che svolgono funzioni diverse per momenti diversi per esigenze diverse io non rinuncio finché finché ci sono risorse finché c'è un editore come Cinecittà che mi consente di farlo trovo che questo sia un bell'oggetto a me piace lo dicevo prima mi piace collezionarlo vedete anche con tutti i dorsi diversi sono una bella collezione sta bene anche in casa insomma è ovvio che alcune cose che qui ci sono non so questa cosa qui come fai a metterla sui social network non è possibile c'è un'app che renderemo disponibile perché la rivista costa 5,50 euro non è distribuita soltanto nelle librerie Feltrinelli quindi anche di difficile accessibilità salvo l'abbonamento l'app la metteremo in vendita non è ancora stata però penso un euro 80 centesimi un euro e 20 questo sarà quindi ha un prezzo molto più accessibile ed è un'app molto poi ce l'ho qui ho la prova non è ancora se qualcuno vuole alla fine gliela faccio vedere è un'app molto interattiva e soprattutto multimediale per cui per esempio in questo numero su cinema e musei c'è un direttore di museo che parla del suo museo e di come nel suo museo ci sono sempre più pezzi di cinema video eccetera tu clicchi sui contenuti extra e vedi i video che ci sono nel museo c'è la mostra del bosone in un solo fotogramma c'è un video che spiega il meccanismo con cui questo è stato realizzato alla fine raccontiamo i 90 anni dell'Istituto Luce perché l'Istituto Luce compie 90 anni è stato fondato nel 24 l'unica richiesta che l'editore ci ha fatto è di ripercorrere la storia dell'Istituto Luce per cui alla fine della rivista per tutti i numeri del 2014 appuntate racconteremo la storia dell'Istituto Luce su carta è bello perché comunque ci sono le immagini dell'archivio Luce ma sull'app ci sono i video bellissimi dell'Istituto Luce per cui tu vai a vedere clicchi e trovi i cinegiornali e trovi filmati d'epoca trovi dei materiali preziosi accessibili a un costo quindi può essere una scelta editoriale quella di non andare secondo me è una scelta dettata anche da scarsità di mezzi perché costa costa fare carta e fare l'app non a caso noi per fare l'app abbiamo ridotto la periodicità da mensile a dimestrale dicevo prima usando i soldi che risparmiamo sulla carta perché poi un direttore ha un budget io ho un budget ho un budget e devo rispondere al mio editore dicendo che io so quanto ho a disposizione per il 2014 e in questo budget sta a me devo pagare gli stipendi pagare i compensi ai collaboratori pagare la carta pagare i grafici pagare la segretaria pagare le bolle pagare tutto e il direttore deve essere anche un manager da un certo punto di vista e devo stare nel budget e se io sto nel budget magari risparmio anche qualcosa l'anno prossimo andiamo a se sforo questo è un altro dei problemi spesso i budget allegri c'è il budget è un segno di serietà di responsabilità lo devi rispettare e devi fare due conti e capire che per stare nel budget i collaboratori li puoi pagare quel tot la carta la puoi pagare tot per fare l'app quanto abbiamo potuto investire cioè fare il direttore significa anche occuparsi di questi aspetti che non sono venali ragazzi e ragazze non pensiate che la creatività sia solo quella che si esprime in ambito artistico non pensate che fare un giorno fare il come dire che occuparsi di cinema sia soltanto scrivere le recensioni occuparsi di cinema significa anche fare queste cose fare tra virgolette imprenditoria culturale e questo è un'altra delle cose che a noi mancano cioè 15 anni fa io ho insegnato per qualche anno al centro sperimentale di cinematografia di Roma che sapete era ed è l'unica scuola pubblica d'eccellenza che prepara i professionisti del cinema e facevo le parti della commissione di selezione voi sapete che al centro sperimentale di cinematografia ci sono allora erano 5 adesso forse sono 6 posti l'anno 5 posti di regia 5 di sceneggiatura 5 di fotografia 5 di montaggio 5 di cinema d'animazione con migliaia di domande perché mi ricordo e la cosa che mi colpiva era che per i 5 posti di regia c'erano 800 domande per i 5 posti di produzione ce n'era 9 e io dicevo ai miei studenti dell'altra università in cui siamo io voglio fare il regista non ce la fai entrare da regista ma io sono bravo non ce la fai sono 800 fai produzione no non capendo che primo quello che contava era entrare al centro sperimentale a qualunque costo secondo perché questo disprezzo per la cultura della produzione in ambito anglosassone se tu dici producer indichi una figura professionale che coniuga competenze manageriali con competenze artistiche ed estetiche quindi una figura altissima secondo me molto più importante molto più alta del cosiddetto autore che ha solo competenze quando le ha artistiche quando le ha no da noi tutti autori siamo non so che siamo analfabeti economici ma pensate invece cioè alla complessità di una figura e i grandi produttori di Hollywood questo erano adesso solo vendono film e fanno film come potrebbero fare pannolini o formaggini ma quando erano veramente appassionati produttori di cinema erano questo erano grandi manager con capacità manageriali e grandi visionari con visioni estetiche con visioni creative e quindi come dire non disprezzate questa componente gestionale perché anche in quella si esprime grande creatività e il far lavorare gli altri è a volte più importante che non scrivere la propria recensione il costruire le condizioni affinché tanti abbiano la possibilità di esprimersi far vivere un portale come MyMovies tenere aperto una rivista in cui io do lavoro perché come dire ritribuiamo i pezzi eccetera eccetera e scusatemi a questo punto della mia vita ritengo sia più importante che non scrivere una recensione socialmente più importante allora io avevo altre domande però le interrompo con piacere la prima si presenti domanda flash sì Carlo Stragapede giornalista della gazzetta del mezzogiorno della cronaca di Bari quindi ho seguito omicidi processi 12 anni di giudiziaria ma appassionato di cinema diciamo da detto i lavori come dire su una strada parallela condivido in pieno quello che dice il maestro Canova perché fondamentalmente nei giornali non c'è l'analisi anche biografica sugli autori ci sono recensioni anche scritte in modo carino in modo molto creativo la lingua si evolve l'italiano è una lingua molto versatile ma non c'è la storia del cinema non c'è la biografia non c'è il vissuto degli autori non c'è l'aneddotica cioè capire per esempio non so se l'anno scorso avete visto le lezioni di Dante Ferretti alla B-Fest esattamente un anno fa capire come è stato girato il Gesù di Nazareth è fondamentale nei giornali tutto questo manca ma il problema a mio modesto avviso non è tanto non è l'eccesso di recensioni o di recensionismo magari fosse solo quello il problema è che i giornali pullulano di presentazioni di eventi che chi le scrive spesso non ha visto non conosce se non attraverso il control C control V del tagli in coll del comunicato che ci siamo fatti arrivare perché siamo sempre di meno siamo il giornalismo in crisi siamo con i contratti di solidarietà qualcuno in cassa integrazione prepensionamenti a go go colleghi di 58 anni rottamati nel pieno della loro vigoria intellettuale e quindi le ragioni sono tutte queste ovviamente non ci sono miracoli però faccio autocritica metodologica cioè lo sforzo dovrebbe essere quello di risparmiare di evitare un po' di presentazioni fate col tagli in colla oggi la tecnologia lo consente mandami due foto di scena e presentiamo eventi ma non solo nel cinema mostre rassegne la domanda per favore così diamo la possibilità volevo chiedere a maestro se condivide questa mia autocritica autocritica grazie grazie condivido condivido soprattutto il disagio e l'amarezza per la professione giornalistica per il difficilissimo momento che sta attraversando a causa io non credo che sia la rete il killer del giornalismo io credo che sia perché altrove le cose non vanno così altrove i giornali pensa prendete la Francia i giornali e i vecchi media non sono così malmessi anzi hanno elaborato delle strategie delle sinergie con i nuovi media che non precipitano la situazione nella dimensione catastrofica che richiamava il collega e qui la responsabilità è secondo me ma qui esprimo davvero un'opinione è di chi ha gestito questo paese non solo politicamente ma anche culturalmente giornalisticamente negli ultimi vent'anni inseguendo l'ubriacatura dell'audience o del gossip nella convinzione che questo avrebbe portato un aumento di coppia un aumento di lettore non ha prodotto questo come non ci voleva molto per capire ha prodotto una fuga totale ha prodotto la caduta verticale di reputazione per cui i giornali io vedo i miei ragazzi all'università se in un anno ne vedo uno o due che entrano una volta in aula col quotidiano è tanto ma poi non è che lo leggano sull'iPad o su non gli interessa anche quelli che vogliono fare i giornalisti non li leggono è come se chi ha gestito i giornali negli ultimi vent'anni avesse fatto di tutto per far scappare i lettori con meno di 30 anni per non coinvolgerlo a me più volte è capitato di dire anche a direttori di giornali che conosco ma state sbagliando tutto ma non vi rendete conto ma alla gente non interessa si interessa quello che mettete voi e andiamo avanti a forza di il risultato è sconfortante però porta delle responsabilità secondo me precise che prima o poi bisognerà bisognerà richiamare e questo riguarda sia i grandi giornali sia le televisioni in particolare la RAI la RAI ha delle colpe secondo me gigantesche che gridano vendetta al cospetto di Dio per chi ci crede perché non è possibile che una televisione pubblica da 25 anni a questa parte abbia abdicato totalmente al ruolo di servizio pubblico inseguendo il modello della televisione commerciale in un regime di duopolio che ha schiacciato ucciso ucciso il libero mercato ucciso il libero mercato perché da noi quando io dico non esiste industria culturale intendo questo intendo che non esiste mercato non è mai esistito ma questo non lo dice nessuno perché c'è una complicità vi faccio un esempio che mi riguarda non per parlare sempre solo di me ma perché mi piace dire le cose che so e di cui sono stato testimone dieci anni fa più o meno all'inizio degli anni 2000 la 7 mi commissiona mi chiede di pensare un progetto per una piccola trasmissione culturale da mandare in onda la domenica sera in terza serata cioè dopo mezzanotte io faccio un progetto che aveva a che fare con una rilettura culturale delle parti del corpo umano erano 12 puntate una dedicata al naso una alla bocca una al seno una alle dita una al culo eccetera eccetera rilette mettendo assieme la letteratura il cinema che si era dedicato a queste parti del corpo umano costo bassissimo cioè una puntata veniva a costare chiave in mano cioè pronta per la messa in onda non mi ricordo se c'era già l'euro non mi ricordo se 10 milioni o 10 mila euro ma insomma nulla rispetto ai costi televisivi va in onda la prima puntata e fa il 2,5% di share la seconda puntata fa il 3,2 la terza puntata fa il 4,7 la quarta puntata non è mai andata in onda perché? per eccesso di successo perché il duopolio Rai e Mediaset come sempre accade si erano spartiti il mercato pubblicitario e in quella fascia oraria la Rai doveva fare tot e Mediaset doveva fare tot se la 7 arrivava al 5% invece che al 2 vuol dire che portava via il 3% di un mercato pubblicitario che era già stato prevenduto in regime di duopolio e questo era intollerabile era intollerabile per cui la 7 non doveva superare quella soglia e la 7 stava al gioco segata la trasmissione non disturbare il manovratore noi abbiamo vissuto per 20 anni in un regime di questo tipo dove come dire il mercato era prediviso fra i due grandi giganti che si dividevano il mercato televisivo e anche quello cinematografico e tutto il resto blatterando di un libero mercato che non è mai esistito di una competenza che non è mai esistita di una meritocrazia che non è mai esistita col risultato che è quello che abbiamo sotto gli occhi tutti finisco rispetto alla domanda io credo che faceva l'amico e collega tutto vero quello che diceva però secondo me più che fare le biografie degli autori un sano giornalismo cinematografico dovrebbe avere come obiettivo quello di far venire voglia di andare al cinema o di trasmettere una passione qualcuno di voi mi avrà visto su Sky dove faccio il cosiddetto cinemaniaco che è una maschera ovviamente è una maschera studiata un'operazione di marketing il cinemaniaco si veste sempre di nero perché è più facile da ricordare non sorride mai perché in una televisione dove tutti sorridono altrimenti ha due denti l'idea di uno che fa un po' il burbero incuriosisce di più ma soprattutto il cinemaniaco non è un critico il cinemaniaco io mi definisco un operatore socio-culturale del cinema un promotore cioè il cinemaniaco non è uno che dice se un figlio è piaciuto o no il cinemaniaco è uno che vuole contagiare che prova a contagiare chi lo guarda e lo ascolta con la sua passione l'obiettivo del cinemaniaco è quello di far venire voglia a chi lo ascolta di vedere un film poi sarà chi che decide se il figlio gli piace o no ma questo è secondo me l'obiettivo che dovrebbe avere un giornalismo sano non è critica no la critica è un'altra cosa c'è spazio per la critica e la critica c'è in questo paese ciò che non c'è è appunto questo aspetto quello di contribuire a diffondere a comunicare l'idea che il cinema è una cosa che può produrre piacere e questo è secondo me quello che io vedo mancare nella rete anche qui lo dico con un po' di amarezza quando vado a vedere i dibatti delle recensioni che ci sono sulla rete quasi mai vedo piacere in quello che viene scritto vedo incazzatura indignazione faziosità toni lapidari ma non trovo quella cosa che invece nella mia vita credo conti sempre di più che è la gioia che è il piacere cioè quando vado in rete però vorrei che qualcuno di voi mi smentisse in questo perché probabilmente sono io che non capisco più io quando vado in rete e leggo certi dibatti sulla rete ho l'impressione di essermi accomodato a tavola con alcune delle categorie con cui io non vorrei mai trovarmi a tavola i camorristi i tifosi da curva sud gli evangelizzatori cioè quelli che hanno in testa un'idea una sola fissa che sono convinti che quella sia la verità e hanno disprezzo furibondo contro tutti coloro che non condividono quell'idea fissa queste persone e spesso la rete mi sembra questo non hanno nulla di quelle poche cose per cui secondo me la vita vale la pena di essere vissuta che sono il dubbio l'ironia la gioia la tenerezza la disperazione non c'è lì c'è solo rabbia non c'è gioia e io sono a disagio in questo vabbè credo che tutti noi abbiamo in mente ormai una persona a testa la vostra categoria ciascuno con cui non vorreste mai trovarvi a cedo e tutti hanno una persona a testa no ma ci sono anche le categorie le categorie sono ancora ne ho dette tre perché le altre non posso ne ho una lunga allora abbiamo cinque domande una dietro l'altra provo a farle in flash e c'è anche una persona che si è prenotato allora Carlotta Susca esiste un tipo di fruizione del cinema che possa prescindere dal rimando intertestuale? oggi no secondo me no credo di no credo che la dimensione dell'intertestualità sia specifica e imprescindibile del cinema contemporaneo ma anche del cinema moderno per certi versi capite quando di dire intertestuale cosa si intende? no allora dalla Nouvelle Vagin poi il cinema è diventato un dispositivo consapevole di avere una storia Jean-Louis Godard diceva parlando di sé e dei propri coetanei della Nouvelle Vagin di Trufforo Mer Chabrot Rivette eccetera noi siamo la prima generazione che sa che Griffith è esistito cioè i cineasti prima di loro non sapevano di avere una storia un passato una memoria da Godard in poi questa consapevolezza è diventata fondativa del fare cinema e chiunque faccia cinema da allora in poi e soprattutto oggi non può non far riferimento al fatto che il cinema è un linguaggio che ha una storia sedimentata che ha un archivio ha una memoria con cui dialogare e il cinema contemporaneo è un cinema tanto più interessante quanto più intesse una rete di relazioni con altri testi non solo con il mondo il cinema l'ha sempre fatto è in relazione col mondo è una forma del mondo secondo me il cinema non c'è un verbo che io non amo quando il cinema rispecchia il mondo no 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 il cinema non è uno specchio il cinema produce mondi o immagini di mondi non rispecchia niente il cinema non è nel regime dello specchio è nel regime del simulacro e il cinema ha sempre prodotto mondi ma ha prodotto mondi dialogando con altri testi per esempio il cinema contemporaneo oggi sempre più è un cinema che usa l'archivio che usa altre immagini pensate a quello che secondo me è il più grande cineasta italiano vivente l'ho già detto Marco Bellocchio è un gigante è un gigante Marco non ha mai vinto nessun premio nessun premio Marco Bellocchio non ha mai vinto Venezia non ha mai vinto Cannes non ha mai vinto non è mai stato nominato gli Oscar i suoi film sono tutti film costruiti su un uso intelligente illuminante rivelatore dell'archivio e quindi pensate da buongiorno notte a vincere come le immagini del cinema anche del cinema muto vengono assorbite dentro i testi di Bellocchio e dialogano con le immagini filmate ad hoc in una dimensione di intertestualità per cui il testo dialoga con altri testi ed esige uno spettatore competente perché se tu non sai che nella scena di vincere in cui Mussolini viene ricoverato in ospedale durante la prima guerra mondiale su quel lenzuolo all'ospedale viene proiettato il Christus di Antamoro non riesce a capire fino in fondo lo tipo di operazione anche concettuale e il tipo di piacere cognitivo e il tipo di lettura del fascismo che Bellocchio dell'eterno fascismo italiano che Bellocchio mette in scena in quel film dico eterno fascismo italiano per indicare l'eterna propensione del maschio italiano e dei maschi italiani di andare in giro con persone che indossano una camicia dello stesso colore a picchiare o aggredire persone che indossano camicie di colore diverso l'eterno fascismo del maschio italiano questo è il film è su questo ma lo dice chiamando in causa Gigavierto Antamoro i film dei Condannati a Morti alla Resistenza in un dialogo intertestuale che esige uno sospettatore competente il cinema è come dire è un'arte è una disciplina ha una storia lo insegniamo all'università io sono non amo la parola indignazione ma sono un po' indignato del fatto che in una regione come la Puglia che è una Silicon Valley di cinema dove fioriscono non ci sia una cattedra di cinema in nessuna università pugliese non c'è ci sono alcuni professori a contratto ma io sono il presidente dei professori di cinema televisione in New Media dell'università di tutta Italia e uno dei nostri casi di ramme noi non abbiamo un professore ordinario di cinema sotto Roma capisco che non ha senso fare una cattedra di cinema a Campobasso o a Catanzaro perché non ci sarebbero sbocchi professionali sarebbe costruire cattedrali nel deserto ma la Puglia no la Puglia è una regione vivissima c'è una film commission straordinaria diretta da Antonella Gaeta lo diceva stamattina diceva Antonella è una che ha cominciato così ma è vero Antonella ha scritto una lettera a Duel ai primi anni era talmente ben scritta illuminante che l'ho pubblicata e poi da lì e Antonella ha cominciato così scrivendo su Duel perfetta sconosciuta è brava in una regione così non ha senso che non esista come dire una cattedra di storia del cinema che storia del cinema non si insegni con professori di cinema all'università c'è un professore di teatro che insegna cinema a Bari ma perché no ma perché 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 non c'è me lo spiegate perché non c'è velo pietoso no perché altrimenti dovremmo anche domandarci perché non ci sono non c'è neanche il referente della comunicazione dell'università non è venuto in quattro giorni a un convegno di quattro giorni sulla comunicazione non è mai venuto non è mai venuto no che non c'entra niente questa cosa perché questa cosa è un altro è un altro parametro e dovremmo parlarne perché c'è un problema con l'ordine nazionale che si sta mettendo adesso in riga comunque io devo chiedere di andare più velocemente perché abbiamo delle domande quindi ci sono due domande che a corpo perché sono molto simili una la fa Daniele 84 Daniele si chiama così che tipo di soluzione propone alla disinformazione artistica da parte della televisione e l'altra è quale sarebbe il miglior modo per riportare l'aspetto culturale del cinema in primo piano questa è di Monica Amenduni un po' si interacciono credo nel mio piccolo io non sono un politico non faccio semplicemente sono un appassionato e faccio il professore il giornalista cerco di vado in situazioni come questa ogni volta che mi invitano rinunciando anche spesso alla mia vita privata ai miei affetti eccetera proprio perché credo sia doveroso lanciare i messaggi che sto cercando di lanciare poi uno può condividerli o no sono quelli in cui io credo e questo posso fare io non posso fare altro non ho strumenti non sono le cose che penso le scrivo le dico con grande onestà sono disponibile a confrontarmi con tutti e cerco di aggregare attorno a questo tutte le persone che in qualche modo sono sensibili al campanello d'allarma che lancio in televisione bisognerebbe fare un cambio radicale di governance soprattutto della RAI e soprattutto bisognerebbe ma anche qui insomma io ho scritto decine di lettere ai ministri della pubblica istruzione proponendo incontri per introdurre noi siamo stati sanzionati più volte dall'Unione Europea ma tutti i governi degli ultimi 15 anni abbiamo avuto sanzioni e multe abbiamo pagato multe perché siamo l'unico paese dell'Unione Europea che non ha la media literacy nei propri programmi cioè l'educazione ai media e l'Unione Europea ci ha sanzionato ma di questo avete mai sentito parlare? L'Unione Europea ci sanziona perché non è possibile che l'Italia non insegni i media a scuola è evidente che in un sistema in cui il consenso si regge sul monopolio sul monopolio televisivo nessuno ha interesse a creare dei cittadini consapevoli di cosa sono i media e di come funzionano cittadini consapevoli del fatto che come diceva Rossellini io con le immagini posso fare di voi qualunque cosa voglio posso farvi ridere piangere farvi paura eccitarvi posso farlo allora io ne sono consapevole e posso dire sto al gioco mi faccio rido piango oppure assumo un attesimento di ma il problema è che la maggior parte degli anni non è consapevole e secondo me secondo un progetto politico deliberato gli italiani sono stati mantenuti in questa condizione di sudditanza perché ovvio che un popolo inconsapevole si manipola meglio di un popolo consapevole questa è la mia opinione e quindi la battaglia è questa e la battaglia nel mio piccolo provo a fare questo provo a far vedere i film perché poi la cosa che più mi colpisce tuttora io quando entro in aula il primo giorno all'università o quando vado nei licei oggi vi parlo di un film italiano del 1960 Rocco e i suoi fratelli ma che schifo che bianco e nero se poi tu riesci a fargli rivedere e a poco a poco vedi che dalla disattenzione si passa all'attenzione e alla fine standing ovation allora vuol dire che le nuove generazioni sono state private private di un patrimonio che è straordinario che gli altri paesi e le altre culture ci invidiano e che noi abbiamo buttato al maggio far vedere i film battersi perché venivano fatti vedere discutere di cinema far presente questa drammatica situazione che riguarda la nostra ignoranza mediatica e sperare che butta cavat lapidem a poco a poco le cose cambiano un'altra domanda Antonietta Rubino e poi l'intervento di persona a che servono i dizionali del cinema così come li conosciamo vanno solo ripensati o non hanno più senso? Bisognerebbe chiederlo agli amici e colleghi che li fanno a Paolo Mereghetti a Morando Morandini che sono persone di cui ho grandissima stima e penso di poter dire anche amicizie certo dieci anni fa avevano una funzione molto più importante di quella che hanno oggi oggi se io ho bisogno di consultare alcuni dati vado su MyMovies e trovo rapidissimamente tutto che cosa ha il dizionario di Paolo Mereghetti o di Morando Morandini che non sempre ha MyMovies la qualità della scrittura nel senso che Paolo Mereghetti e Morando Morandini sono due penne eccellenti e a volte MyMovies ha dei pezzi all'altezza a volte no anche perché Morando e Paolo sono due giganti del giornalismo credo che ne converrai con me però avete Morandini c'è una dopo di chiedere io a volte lo chiedo anche a Paolo Morando ormai è una figura tenerissima Morando Morandini è il decano dei critici ha 90 più di 90 anni più di 90 anni scrive ancora con la macchina da scrivere con la lettera 32 Olivetti a me fa una tenerezza lui aveva una rubrica su due lanti e la mandava io ho smesso tre anni fa per posta col Franco Bollo per posta e però vedere questo straordinario signore che ha vissuto per il cinema che va al cinema prende la metropolitana va da solo va alle anteprime e ha ancora questa voglia di di fare archivio di recensire perché poi scrivere ha questo di bene vi è mai capitato a me capita vedo un film esco non so neanche più bene poi mi metto lì scrivo e a un certo punto la mia mano scrive per me e alla fine mi rendo conto che da un una nebbia da un brusio un brulichio elettronico indistinto forma un pensiero e Morando fa questo cioè va scrive recensisce e archivia e questo io credo sia sia molto bello per lui che lo fa e abbia meriti tutto il nostro rispetto e il nostro affetto indubbiamente ripeto dieci anni fa erano più utili di quanto non sia adesso e quando la rete si raffinerà un po' e troverà penne degne di Morando Morandini o di Paolo Merighetti i dizionari non serviranno più fino a qualche anno fa e chiudo il fatto di mettere i dizionari in rete non uccideva la vendita io ho fatto la Garzantina Cinema che è su My Movies e allora voi dovete sapere posso raccontare un aneddoto la mia attenzione anche ai dati economici uno perché si mette a fare la Garzantina Cino bisogna essere pazzi perché la prima edizione della Garzantina Cinema eravamo ancora nel millennio scorso io ebbi un budget di se non ricordo male 60 milioni di lire con cui ho dovuto pagare tutti gli autori delle schede sono migliaia decine di migliaia di schede e fatti i conti venivano pagate mille lire l'una una roba del genere l'orde per cui per fare una scheda ci metti per fare la scheda di Fellini ci metti due giorni se la vuoi fare bene insomma io avevo guadagnato se non ricordo male alla fin fine 500 mila anche qui non ricordo 500 mila lire o 500 euro non è la stessa cosa ma insomma l'ordine niente per un anno di lavoro perché sapevamo che insomma poi però l'opera la Garzantina Cinema è stata distribuita col Corriere della Sera 100 mila copie con Sorrisi e Canzoni TV altre 100 mila copie con il giornale 80 mila copie e lui dice se mi avessero pagato le royalties sarei diventato ricco invece no poi dopo va su My Movies e ovviamente noi autori non abbiamo mai visto una lira mi hanno detto però gli amici della Garzanti io diciamo insomma non vendiamo più niente se la mettiamo su My Movies invece andata su My Movies per un po' ha venduto di più anche l'edizione su carta per strani meccanismi per cui uno trova la voce e credo la stessa cosa valga anche per i morandini trova la voce si incuriosisce a Natale deve fare il regalo all'amico all'amico e compra i morandini compra i merighetti compra la Garzantina Cinema che è un regalo carino e neanche particolarmente dispendioso e quindi mi sono perso va beh altra domanda prego no per favore di qui non posso abusare ma sono due però una è brevissima tornando alla stessa domanda che ho fatto questa mattina prendendo spunto dal suo pezzo di apertura 8 e mezzo la rivista che ci ha donato lei fa l'esempio dei più bel film del 2013 del 2011 se non sbaglio che è appunto The Clock che non è andato in cinema ma a me viene in mente Parreno e Douglas Gordon con il ritratto su Zidane altro capolavoro della videoarte quanto ci stiamo precludendo come italiani questa nostra ignoranza sopra la videoarte che tanto feconda e per il cinema anche di un certo tipo che diventa anche commerciale fondamentalmente non necessariamente per il cinema per il radical chic per il film coreano che vedono i 4 o 5 persone ma anche io ho visto grandi commissioni proprio anche in film commerciali prese a piene mani da autori anche passati negli anni 70 negli anni 60 videoartisti in questo senso e poi una domanda un po' più semplice cinema e giornalismo mi viene in mente il festival di Locarno di qualche anno fa che ha prodotto anche un bellissimo catalogo se lei con i 4.000 film che ha visto ci può dare un consiglio su qualche film che magari può appassionare un appassionato di cinema che fa giornalista o un appassionato di giornalismo che si occupa di cinema che so una vita difficile o tutti gli uomini del presidente qualche film che ci può consigliare in questo senso grazie sulla videoarte sono assolutamente d'accordo credo che sia una delle esperienze più interessanti purtroppo anche qui sottovalutate anche perché la videoarte esige una fruizione esperienziale in cui il corpo torna ad essere in movimento non sei seduto di fronte a uno schermo ti relazioni anche dal punto di vista prossemico con il film di cui sapete cos'è The Clock è il film che ha vinto che io dico qui è secondo me il film più bello o quello che ha interessato di più del 2011 che è questa straordinaria installazione che dura 24 ore e tu in qualunque è un film di montaggio ho fatto tutto un film di archivio in qualunque momento adesso sono le 4 e che ore sono? 4 e 4 e 8 4 e 8 se tu entri alle 16 e 08 nell'installazione di The Clock sta andando in onda una scena in cui c'è un orologio che segna le 16 e 08 o in cui uno dei personaggi dice ma sono le 16 e 8 non sei arrivato in ritardo oppure cioè è questo per 24 ore in qualunque istante tu entri in qualunque ora del giorno o della notte poi il regista dice che le ore più problematiche sono state quelle dalle 2 alle 5 di mattina perché lì anche lì neanche nei film succede di meno però pensate alla straordinaria anche dal punto di vista teorico costruzione di un artefatto gigantesco che fa coincidere il tempo della rappresentazione col tempo della fruizione col tempo della vita e che pone lo spettatore nella condizione di rapportarsi con una storia del cinema in cui è un orologio The Clock è l'orologio non un orologio l'orologio il cinema che diventa orologio del tempo orologio della vita orologio della rappresentazione io lo trovo straordinario dal punto di vista teorico è un film che credo nessuno abbia visto tutto perché anche alla Biennale di Venezia la Biennale Arte perché non era la Biennale Cinema di sera la Biennale chiudeva e quindi nessuno degli spettatori della Biennale Arte ha potuto vedere le ore notture a New York le hanno viste quindi anche io non l'ho visto tutto ho letto quello che hanno scritto e mi garantiscono che anche nella fascia dalle 2 alle 5 questa sincronia fra il tempo di visita e il tempo di rappresentazione c'è ma da noi da sempre all'italiana fai un'opera così e poi la Biennale alle 7 di sera chiude e riapre le ore della mattina dopo mentre una cosa così costruisci un happening un evento 24 ore su 24 tieni aperto quello spazio arrivi con le brioche offri da bere vino fai 24 ore su 24 fai un happening infinito rompi le distinzioni fra giorno e notte no non si può perché non si può perché non si può mi spiegate perché non si può faceva concorrenza a 24 con Kiefer Sutherland la battuta è carina ma mi spiegate perché non si può perché in un'istituzione come la Biennale di Venezia non puoi tenere aperto 24 ore su 24 un'installazione che si chiama The Clock per consentire di fruirla come dovrebbe essere 24 ore su 24 siamo un paese di cioccolata no sul serio credo che forse i portieri non avevano l'assicurazione cioè noi la stessa cosa qui la si fa l'assicurazione la si fa io su questo sono un po' ma insomma i contratti di lavoro si possono pagare gli straordinari no assolutamente sì perché non si trovavano dei ragazzi che pagati ovviamente potevano tenere aperta il giorno anche volontari si trovavano anche volontari ci vuole la volontà politica ancora una volta politica io ho ah no l'altra domanda l'altra domanda era allora infinito i titoli che ha citato lei sono non so per stare sul cinema italiano che io amo molto Fortapache è un film che a me è piaciuto parecchio Sbatti il mostro in prima pagina del mio amato Marco Bellocchio anni 70 che è un film precursore per molti versi su un caso di giornalismo spazzatura e su un caso di costruzione di mostro artificiale no il classico caso di delitto su cui la polizia la polizia indaga le indagini arrancano nel bue allora si crea un mostro da sbattere in prima pagina da dare in pasto l'opinione pubblica meccanismo analizzato con grandissima lucidità da Marco Bellocchio e poi ci sono perché poi il giornalismo e anche televisione ci sono i grandi film sul giornalismo televisivo che sono anche a cominciare da Quinto Potere in qua che sono spesso molto molto feroci il cinema è più ferocio con la televisione che con la carta stampata perché la carta stampata ce la si cava con Anfrigo Bogart e la stampa bellezza e quindi questo sulla televisione dato che stava parlando di questo film che è stato ristampato da poco da Raro Video sbatte il mostro in prima pagina con Gian Maria Volontè ma c'è ci sono delle operazioni editoriali appunto io citavo Raro Video ma sicuramente ce ne sono tanti altri che lei trova interessanti perché riescono a riscoprire dei mondi che sono assolutamente censurati perché Andy Warhol le opere di Andy Warhol in video comunque se non le vediamo attraverso il DVD sono irreplicabili in Italia sempre Raro Video più che censurate lasciate cadere nell'oblio che è la forma di censura più subdola l'ultimo caso di censura che io ricordo in questo paese c'è stato un caso di un film horror un paio di anni fa italiano ma l'ultimo caso di censura era ve lo ricordate per un film no 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 molto più totò che visse due volte di Cipri e Maresco siamo nel 1998-99 e quindi un caso di film con censura tutta ideologica perché non c'è non c'è pornografia non c'è violenza non c'è e io ebbi a scrivere in questo non sono tanto d'accordo con quello che diceva Piero De Tassis che non c'è nulla da censurare più io dico che il fatto per esempio che il cinema italiano non produca più nulla di censurabile è un sintomo della sua sostanziale connivenza col sistema di potere io credo che quando c'è la censura è un segno di grande vitalità di una cultura che entra in rotta di collisione col sistema di idee dominanti io credo che l'arte e la cultura questo debbano fare a me di un'arte e una cultura conniventi col potere quale che sia il potere quale che sia interessa poco preferisco l'arte e la cultura che entrano in rotta di collisione col potere e che inducono i fruitori a interrogarsi e che siano talmente disturbanti per il potere da indurlo al gesto estremo della censura e non ci riusciamo più anche perché probabilmente il modo più più subdolo adesso per censurare è quello di fingere di lasciar caderno l'obbligo operazioni culturali interessanti editoriali interessanti sì i vari restauri le ripubblicazioni le riproposizioni addirittura i circuiti di distribuzione iperalternativa a Milano c'è un gruppo alcuni sono miei ex studenti che per anni hanno preso film che erano passati in festival importanti avevano anche vinto premi che nessuno aveva distribuito e li hanno in maniera volontaria sottotitolati in modo si chiama i dispersi questa associazione hanno anche pubblicato un libro andando a scoprire film di assoluto pregio e valore dimenticati che loro sottotitolavano e rendevano disponibili con la sottotitolatura quindi sono operazioni editoriali meritevoli assolutamente da sostenere così come quelle che citavi tu insomma io credo che mi amareggia molto il fatto che se io dico posso spostare a fare un test no poi mi odiano facciamo l'interattivo 2.0 lei mi sa dire tre film interpretati da Gianmaria Volontè Giordano Bruno lei mi sa dire dei film interpretati da Gianmaria Volontè indagio sui denti e l'ho detto quello che io ritengo essere secondo me Gianmaria Volontè era un gigante sì veramente impressionante la bravura dimenticato io in uno dei primi numeri di otto e mezzo io mi divertivo anche perché quando io dico analfabetismo filmico provo anche a sostanziarlo abbiamo fatto dei sui primi numeri c'erano dei test ma anche su questo c'è un test sul neorealismo in cui si chiede e vengono fuori l'ignoranza assoluta l'ignoranza assoluta sul neorealismo nei primi test chiedevamo mettevamo le fotografie c'erano fotografie Mastroianni Volontè Cardinale De Sica chi è? 60 70 80% non li riconoscevano ovviamente test fatti senza la possibilità di andare a smanettare su è questo oppure 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 il primo test che abbiamo fatto erano 20 film raccontati in meno di 25 parole perché poi a me piace l'analisi mi piace la scrittura mi piace la capacità di argomentare di sedurre con la scrittura con la parola però a quello ci arrivi se prima hai elaborato la capacità di sintesi se non sai sintetizzare non riesci neanche a sintetizzare motivo per cui per esempio all'università i miei studenti quando vengono a fare l'esame devono venire ognuno con il riassunto in non più di 25 parole dei 10 film che portano all'esame fatto quello li hai riassunti andiamo a fare l'esame quella è la precondizione come dicevano i produttori hollywoodiani se hai una buona idea me la devi raccontare in meno di 25 parole o in meno di 3 minuti se non sei capace non è una buona idea quindi prima cosa la sintesi allora nei test che facevamo c'era scritto cronista mondano gira per i locali alla moda nella Roma dei primi anni 60 85% in bianco e se prendete il numero 1 di 8 e mezzo oppure grandissimi fin della storia del cinema italiano cinque fratelli lucani arrivano a Milano all'inizio degli anni 60 e cercano di integrarsi nella città Rocco e i suoi fratelli bianco oppure c'era un film da Nanni Moretti a Troisi era un film in cerendagine sul sistema di sopra dei miei sospetti la percentuale di risposte era drammatica così come l'ultimo test che abbiamo fatto che sarà sul prossimo numero il tema del prossimo numero che stiamo chiudendo adesso è cosa si ricorda dei film e come si ricordano i film perché cerchiamo di dare dei temi di questo tipo che è un tema per esempio voi come li ricordate i film e li ricordate non so a me sempre più spesso capita di non ricordare i finali sempre più spesso capita di ricordare delle immagini fisse e di far fatica a riarticolare la trama abbiamo fatto abbiamo intervistato una decina di attori e registi italiani chiedendo a Bruciapelo mi racconti la dolce vita e tutti rispondevano ah capolavoro assoluto del cinema no non voglio sapere il giudice voglio la trama voglio il racconto eh balbettio e quasi nessuno è riuscito ad articolare mentre invece nei cinema ho sguinzagliato una decina di miei studenti che nei cinema milanesi andavano all'uscita della grande bellezza e regalavano una copia di 8 e mezza però mi deve dare in 30 secondi mi racconta quello che hai visto abbiamo pubblicato le risposte è impressionante come la difficoltà di articolare di riassumere di sintetizzare la visione la visione e sulla grande bellezza provate voi mi raccontate la grande bellezza in 30 secondi cosa vi viene da dire questi sono esercizi utilissimi dal punto di vista giornalistico se volete proviamo diventa anche divertente però appunto 8 e mezza di questo si occupa uno dei prossimi numeri vorrei farlo sul selfie l'autoritratto perché è un fenomeno molto rilevante secondo me e come tutti i fenomeni rilevanti ma non voglio anticipare ha degli elementi straordinariamente positivi ma anche degli elementi straordinariamente negativi dopodiché io parto come sempre dal mio amato Godard i selfie sono quasi sempre i primi piani o mezze figure e il primo piano è una cosa che mi interessa molto perché ho imparato da Godard che il primo piano non l'hanno inventato i cineasti o i pittori chi l'ha inventato il primo piano secondo voi il primo piano chi l'ha inventato io l'ho imparato da Godard non è pensata mia magari no 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 prima molto più molto più no prima del binocolo il teatro l'hanno inventata i re e gli imperatori che facevano coniare il proprio primo piano sulle monete legando il primo piano a una dimensione economica alla dimensione del denaro e dell'autorappresentazione di sé il primo piano nasce con questa connotazione e non va dimenticato perché poi arrivano la pittura il cinema ma il primo piano all'origine è quella roba lì è il potere che rappresenta se stesso dove in ciò che viene usato nello scambio economico nel luogo del valore e il luogo del valore coincide con il luogo del potere e sul luogo del valore la moneta che fa la tua ricchezza e la tua povertà c'è l'emblemo e il simbolo del potere guardate che è molto interessante questo fatto se andate a scavare nell'archeologia della società e da lì si arriva il selfie ma allora chiamerò a raccolto ecco la persona che mi ha suggerito non è mia la pensata è uno di voi che mi ha detto perché non fai una cosa sul selfie geniale hai ragione e lo fa lui ce lo facciamo assieme vedrete chi fa il selfie c'è un debuttante assoluto che ha avuto l'idea questo secondo me serve per fare giornalismo che sia in qualche modo non so se siete d'accordo secondo me fare una cosa sul selfie e fare un'indagine su tutta la ricaduta cultura poi faremo indagini andremo faremo un concorso sul selfie chiederemo la filosofia di giocare alto e di raccontare la storia dei ritratti degli autoritratti ma poi di giocare anche come dire sul modo in cui sul modo in cui tutti noi tutti noi io no ma tutti noi postiamo le nostre immagini su facebook e ci compiacciamo di distribuire infinite immagini di noi di intasare il mondo la rete le nostre immagini che è un'altra sindrome molto interessante della contemporaneità l'ultime due domande però un minuto ciascuna solo perché purtroppo il tempo è finito qua alle 7 non c'è ritorno senza ritorno magari Giancarlo vuol dire qualcosa poi lo riprendi dopo quindi una domanda al volo Viviana Minervini il leone d'oro al documentario Sacco Gra cosa ne pensa di questo genere e dove si sta dirigendo il cinema italiano lo so che in un minuto è dura però in 30 secondi la facciamo l'altra un'altra e l'altra è il super finale cioè Bianca Chiriatti l'ha postata all'inizio del suo intervento però me la sono tenuta per adesso qual è il segreto per la perfetta recensione non esiste la perfezione per fortuna non esiste la perfezione per fortuna sono tutte imperfette perfettibili umanamente criticabili mi farebbe paura la perfetta recensione rispondo però a Sacro Grae con questo chiuso così come dico con grande sincerità che sono innamorato della grande bellezza con altrettanta sincerità dico che non amo per niente Sacro Grae e ritengo che Il Leone d'Oro questo film abbia nuociuto al cinema italiano e all'idea stessa di documentare che c'è con cui noi ci rapportiamo spiego le due cose dopo Il Leone d'Oro a Sacro Grae ho ricevuto decine se non centinaia di messaggi di mail o di gente che mi fermava all'entrato all'uscita dei cinema dicendomi sono andato a vedere Sacro Grae che voi critici avete così pompato l'ho trovato terribile non andrò più a vedere un film italiano oppure la variante non andrò più a vedere un film che ha vinto Il Leone d'Oro messaggi ripetuti in questa direzione io credo che bisogna stare molto attenti a come si premiano i film a che film si premiano a che messaggi si mandano al pubblico perché premiare un film come Sacro Grae significa mandare al pubblico di massa quello che è analfabeta filmicamente perché hanno reagito così perché non avevano gli strumenti per capire se tu mandi un messaggio che il film è una cosa noiosa è una cosa per addetti ai lavori è una cosa poco cool come diceva Piero De Tassi a me questo non piace in particolare non mi piace il fatto che Sacro Grae rimetta in gioco quel gusto del marginale del grottesco che è tanto caro al cinema italiano che non sa raccontare invece la normalità io quando ho letto di un film che si chiamava Sacro Grae mi sono immaginato oh finalmente un documentario che ci racconta l'orrore del grande raccordo anulare di Roma dove migliaia e migliaia di persone passano ore e ore della loro unica vita chiuse nelle scatolette di metallo che sono i nostri automobili e consumano lì ferme nelle code barocche che solo Carlo Emilio Gadda avrebbe saputo descrivere parte non trascurabile della loro vita volevo sognavo auspicavo un film su questo invece no e invece Rosi cosa mi fa un film su quelli che girano ai margini su chi stanno ai margini grotteschi personaggi un po' da circo il cinema italiano ha sempre disprezzato la normalità non ha spesso ma perché non sapeva raccontare e ha cercato personaggi pittoreschi il gusto del pittoresco solo che se tu stai per tre anni con questi personaggi pittoreschi che vivono ai margini del grande raccordo monale e li filmi e li rifilmi alla fine questi diventano attori diventano personaggi che recitano un copione diventa finzione e allora a me non va più bene che questo venga spacciato come documentario perché questa è una messa in scena che si spaccia per documentare ma non lo è è anche qui una rappresentazione non so che molti su questo non sono d'accordo ma io trovo che questo sia un approccio alla grande fratello io trovo che abbiano vinto i premi alcuni di documentari italiani meno interessanti e meno rappresentativi Fran Martino ma Fran Martino ha un approccio diverso Fran Martino è uno Fran Martino tra l'altro insegna insegna nel mio corso di laurea e insegna video arte tra l'altro lui sta facendo un corso in cui fa progettare ai ragazzi delle video installazioni che saranno fruibili come video installazioni ma poi messe assieme diventeranno anche un film vedibile al cinema lui è straordinario anche qui entriamo io ritengo che Fran Martino sia un modello virtuoso di cinema del reale Sacrogrammi interessa meno detto questo ritengo che il problema siano le giurie dei festival su questo numero di otto e mezzo leggerete una mia proposta provocatoria che non sarà mai realizzata perché è molto pop ma è volutamente pop è l'anima pop mia ed è di ma per chi l'ha detto che le giurie dei festival devono agire nel segreto al buio nell'opacità totale i gossip le indiscrezioni piace questo perché non impariamo adesso mi fucile da X Factor io mi immagino da X Factor mi immagino le giurie che si riuniscono pubblicamente che discutono e fanno esercizio pubblico di critica che prendono posizione e motivano pubblicamente i propri giudizi e sulla base di una pubblica discussione selezionano i film li portano in nomination e poi li premiano ma avendo il coraggio di assumersi pubblicamente la responsabilità di una scelta e di un giudizio perché questi giudizi nascosti segreti di cui si tra l'altro sarebbe un modo anche per svecchiare i festival per trasformare la liturgia dei festival in un continuo spettacolo in un talent ma questo sono anche in paese sono un talent che deve scoprire i nuovi talent e per renderli più appassionanti per dare più suspense più elemento di discussione non sul gossip su cui si esercitano tanti i nostri giornali è arrivata la diva e aveva le mutande di questo colore chi se ne frega scusate ma la discussione aperta da una giuria autorevole che si confronta sui modelli estetici linguistici comunicazionali emozionali politici culturali che i film mettono in gioco a me un festival così piacerebbe molto non lo faranno mai e quindi ci continueremo a sottuire le giurie che lavorano in segreto che decidono non si sa in base a quali criteri in base a quali ricatti in base a quali considerazioni politico-diplomatiche con giudizi che non servono più a promuovere i film perché se voi voi vi ricordate chi ha vinto il festival a parte Sacro Gra l'anno prima chi ha vinto e due anni prima chi ha vinto ve lo ricordate no due anni prima ha vinto Faust di Sacro che ha fatto 400.000 euro di incasso niente per un film che vince a Venezia l'anno successivo ha vinto Pietà di Kinky Doc che ha fatto 450.000 euro ma un film che vince a Venezia mi fa una miseria perché 450.000 euro di incasso è niente con tutto lo sforzo ne hanno parlato e riparlato giornali televisioni la rete vuol dire che c'è qualcosa che non funziona vuol dire che i festival così come sono hanno perso la capacità di promuovere e di far accendere nel pubblico la voglia di vedere anche solo i film che vincono qualcosa non funziona basta grazie